Ciao a tutti, la serata di oggi è un po' particolare perché con questa iniziamo un nuovo corso del quale abbiamo parlato abbondantemente, spiegandovi un po' i nostri programmi. Era nostra intenzione entrare in contatto con un biologo marino che ci aiutasse a capire un po' tutte le caratteristiche, le problematiche e soprattutto i comportamenti che la natura di volta in volta permette ai pesci che noi andiamo ad insidiare per la loro sopravvivenza e per la loro maturazione. E devo dire che è stata una serata illuminante, ecco perché ho cambiato la presentazione della serata, perché siamo rimasti molto stupiti. Matteo, oltre ad essere un grande biologo, un insegnante, è uno che ha un'ottima dialettica, è uno che spiega, ed è quello che a me piace, delle cose complicate in modo semplice, quindi comprensibili a tutti, però soprattutto è un corso nuovo per noi, nel quale inizieremo a studiare di volta in volta tutte le varie specie, non solo parleremo delle esche, dell'ambiente marino, insomma delle specie aliene, di tutto quello che poi riguarda la vita dei nostri mari. E devo dire che è stata una puntata illuminante per molti di noi, perché io per primo, che non sono uno così superficiale, ma che va a fondo sulle varie tematiche del surf casting, della pesca in generale, ho sentito tante cose che non sapevo. pensavo di conoscere questa specie, la spigola, no? Che è una specie per noi abbastanza frequente, conosciuta, ci dibattiamo spesso nelle catture di questi esemplari, però ci sono tante cose che io per primo non sapevo. Quindi vi invito a seguirla tutta la serata, perché come me, credo anche chi ci segue, avrà la sensazione di incontrare una specie nuova, insomma. Ed è stata una cosa bellissima. Con queste serate il nostro scopo è quello di sensibilizzare tutti voi, soprattutto gli amanti dei social, a prestare maggiore attenzione alle catture, al proprio comportamento, perché ognuno di noi è responsabile del proprio comportamento in riva al mare, e non di quello degli altri. Però se voi seguite la serata, secondo me rimarrete stupiti su tanti aspetti della spigola. Questo, i più sensibili saranno sicuramente colpiti da tante ragioni, per le quali, per esempio, le catture delle spigole col vivo, da pesca in mezzo alle alghe, come abbiamo sempre detto. Sono argomenti sui quali bisogna prestare la massima attenzione, soprattutto a livello di rispetto per l'ambiente e per le specie marine. Siccome nessuno di noi, penso, venda i pesci che pesca, l'invito è quello di seguire con attenzione tutta la serata, in modo che anche voi capiate che è meglio rinunciare alla cattura di qualche pesce grosso, che peraltro, io per primo faccio la mia colpa, ho catturato spigoli di 8 e 10 kg, voglio dire, però poi mi sono anche reso conto che non erano buone, perché erano stop pause, erano impegnative da cucinare, in più ho fatto fuori un grande riproduttore che avrebbe potuto produrre altre centinaia di migliaia di piccole spigole che poi sarebbero diventate grandi a loro volta. Quindi seguitela con attenzione, ragazzi, perché piano piano con l'avanzare delle nostre puntate scoprirete un mondo nuovo legato al surfcasting. E questo invito è rivolto a tutti voi, ma anche a chi, soprattutto a chi, dovrebbe avere il diritto e dovere di salvaguardare l'ambiente marino e non solo promuovere l'agonismo o promuovere la pesca in generale. Perché a fronte di regolamenti agonistici, a volte scriteriati, poi ci rimettiamo tutti. Per cui l'invito è rivolto a tutti, strizzando anche un occhio però alla federazione, che poi è l'organizzazione che stila i regolamenti, gara, che spesso e volentieri dimostra molta superficialità in queste azioni. Per cui seguitela, seguitela con attenzione, fateci sapere le vostre opinioni e questa è la prima di tutta una serie di puntate nelle quali andremo ad analizzare l'ambiente marino con un aspetto, come piace a me, scientifico e non solo più empirico, come abbiamo sempre fatto finora da appassionati. Quindi vi ringrazio tutti, diamo il via alla serata e vi presento Matteo Baldini. Grazie ragazzi, a dopo. Io un tanto ti ringrazio e vi ringrazio tutti per il tempo e insomma per l'opportunità che mi date. Qualcuno mi conosce, qualcuno no, mi chiamo Matteo Baldini, ho 39 anni, vivo nel nord della Toscana, a Massa, a Massa Carrara, un pochino pesco qui, un pochino pesco al Livorno dai miei suoceri. Ho studiato biologia marina e mi sono appassionato, visto che sono pescatore da sempre, sono cresciuto a 200 metri dal mare, quindi la malattia del salmastro, ancora lì becciata, mi entrava il salmastro in circolo. mi sono dedicato anche a un settore della biologia marina piuttosto affine a quello di cui andiamo a parlare, che è la biologia della pesca. All'Università di Pisa ho avuto la fortuna di avere un professore molto bravo che si chiama De Silvestri, che mi ha fatto appassionare ancora di più alla biologia della pesca. Sono sicuramente... Allora, Marco mi diceva che voi finora avete trattato tanti argomenti dal punto di vista empirico e esattamente da lì che partono i record che poi cerchiamo di capire noi che siamo dall'altra parte. Marco, aspetta che sei muto. Scusa, chiedi di attivare... Sì, ci sono. Salutiamo un attimino Luca Tozzi, ragazzi, perché ci sta chiamando velocemente dalla California. E' partita, sta suonando e la cosa ci fa molto piacere. Luca, dove sei? Non so se è muto. Marco, scusami, ma è muto. Luca, Luca Tozzi, apri il microfono. Niente, lascia perdere, vai avanti. Sì, sta registrando, Andrea. Stavo dicendo che sicuramente io spero di darvi delle informazioni interessanti e sicuramente però il bagaglio di esperienze fatto sulla spiaggia è quello da cui arrivano tutti i dati che noi cerchiamo di analizzare un po'. come diceva Marco questo è il periodo dell'anno in cui se abbiamo fortuna o se uno è particolarmente ossessionato come me che è la mia pesca preferita abbiamo a che fare con la nostra amica spigola, branzino, ragno, chiamiamolo come ci pare. Pesce di cui c'è tanto da parlare perché intanto per noi che abbiamo fatto il mio tipo di formazione ricordatevi che la spigola è il primo pesce non salmonide quindi escludendo le trote a essere stato allevato ok la storia dell'acquacultura che è un settore trainante per noi biologi marini è nata con l'allevamento della spigola specialmente intorno al Mediterraneo perché a partire da fine degli anni sessanta inizio degli anni settanta c'è stata un po' una guerra tra le scuole di biologia marina italiana e francese e siamo stati pionieri nell'allevamento di questa specie siamo stati primi a riuscire a riprodurla a fare tutto il ciclo del di questo pesce senza dover più raccogliere come si faceva prima degli anni settanta gli avannotti in natura e poi a crescerli tanti di voi se sono vi sento parlare siete sardi insomma penso che nella storia del Mediterraneo siete stati i primi a allevare già dai tempi dei romani se uno pensa a Cabras pensa alle lagune o al sud della Sardegna Cagliari la storia dell'allevamento della spigola è una storia legata alla storia delle saline quindi è ancora più interessante da questo punto di vista è un bel assist perché parliamo di un pesce particolare ok io vi ho preparato un pochino di materiale qualche slide che vi faccio vedere aspetta che lo devo aprire facciamo una condivisione allora ditemi se vedete lo schermo che sto condividendo qualcuno mi faccia un segno si vede ok ottimo come vedete subito qui dalla nostra dalla nostra copertina parliamo un po' della biologia della pesca e facciamo un bel focus puntato su di centra che è la spigola ok che è un po' la regina del Mediterraneo una delle specie più insediate e più interessanti allora partiamo un po' dalla sistematica allora la nostra amica che qui ne vediamo due fotografate su un bel letto di Posidonia morta che è un ambiente che alla spigola piace parecchio perché si trova un sacco da mangiare è un pesce della famiglia dei Moronidi prima prima si pensava che fosse era messo dentro i serranidi cioè la mega famiglia dove sono le cernie e poi è stata tolta per via di vabbè motivi sistematici dentro dentro i Moronidi prima si parlava di qualcuno che negli States ci sono anche quei pesci giganteschi come lo striped bus o il come il giant black bus quel pescione gigante che vive in California è una famiglia che a noi ci interessano che sono di interesse all'eutico per noi ci sono due due specie fondamentalmente tutte e due del genere di Centrarcus una è la nostra spigola e l'altra invece è di Centraskur puntatus che è la spigola macchiata vi ho messo due foto iniziamo subito a parlare di una cosa interessante vi ho messo due foto di due juveniles cioè di due pesci piccoli non più avannotti però già pesci giovani piccoli perché anche la spigola normale tra virgolette anche lei quando è piccola ha i puntini ok però come potete vedere le differenze somatiche ci sono tra la spigola perché ci interessa questa distinzione ci interessa perché la taglia che viene raggiunta dagli adulti di una specie o dell'altra è molto differente ok una spigola macchiata di un chilo è già un adulto una spigola macchiata una spigola invece comune un branzino di un chilo è poco più di un subadulto ok è un giovincello adolescente che non si è ancora riprodotto tutte e due hanno i puntini però se vedete le proporzioni del corpo sono molto differenti la prima cosa che salta all'occhio scusate il gioco di parole veramente cacofonico è la dimensione dell'occhio in proporzione alla mole soprattutto nell'adulto l'occhio nella spigola macchiata è molto più grande un'altra cosa che salta all'occhio è che la punteggiatura la punteggiatura queste macchioline nella spigola macchiata è molto più presente e soprattutto scende sotto la linea laterale la linea laterale è questa linea che vedete dove sono contenute delle cellule sensoriali a forma di bastoncino che si muovono e percepiscono funzionano un po' come le ciglia all'interno dell'orecchio interno cioè sono delle delle cellule che sono vincolate da una parte dall'altra parte hanno un'estremità libera questo permette di ondeggiare e questi sono gli organi di senso che permettono ai pesci di percepire le vibrazioni nell'acqua le varie vibrazioni e le variazioni di pressione ok è questo organo ok questo organo accessorio che nella spigoletta in alto si vede piuttosto bene ok sta linea sinuosa sul fianco allora qui vi ho messo una slide una slide che vi fa vedere come funziona praticamente il ciclo vitale completo della spigola ok partendo dal nostro bell'adulto se leggete le definizioni io ve le spiego sono piuttosto interessanti un paio di cose innanzitutto il fatto che ci sia una bella un bel un bel punto forte in cui c'è scritto che c'è una migrazione tra aree distinte in cui questo animale in cui questo questo pesce si nutre e le aree in cui questo pesce si riproduce questo ci interesserà mi sta suonando qualcosa ma non vedo chi è vabbè questa distinzione tra aree riproduttive aree di pascolo tornerà fuori più avanti e sarà importante ricordarci che c'è questa segregazione poi c'è la sponing quindi la la frega le uova che vengono deposte dal nostro ragno sono uova planktoniche non c'è nessun tipo di cura di cure parentali né nessun tipo di nido né nessun tipo di occultamento delle uova le uova hanno una gocciolina d'olio che gli permette di galleggiare quindi se ne vanno libere con la corrente queste queste uova vanno a finire nel plankton si 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 schiudono si schiudono e praticamente vengono portate in shore cioè le larve tendono andare ad accrescersi in determinate aree di acque basse per esempio io ho fatto tesi e tirocigno alle canarie alla spalmas perché studiavo il corallo c'erano dei miei amici che invece studiavano la spigola anche alle canarie i letti di posidonia sono una narceri dove non ci sono estuari dove non ci sono grossi golfi i letti di posidonia e la posidonia morta come vi facevo vedere prima sono tutti posti dove questi pescetti piccini trovano tanto da mangiare e trovano shelter trovano rifugio trovano posto per nascondersi nella fase dell'adolescenza la spigola è un animale gregario le spigole fino ai 4-5 anni quando hanno ancora le macchiette per capirsi sono pesci che viaggiano in branco e in questo momento tendono a entrare nell'acqua dolce perché? perché trovano tanto da mangiare perché gli estuari le foci sono ambienti alta produttività cosa vuol dire? vuol dire che l'acqua non è particolarmente pulita l'idrodinamismo le correnti non sono particolarmente forti tutta questa cosa innesca tutte queste caratteristiche innescano una catena di eventi che portano come risultato che in questi tipi di ambienti ci sia parecchio da mangiare e questo permette alla nostra le nostre spigolette piccine che finché sono pesci di 4-5 anni non sono prettamente piscivore cioè non mangiano solo altri pesci come la spigola molto grossa adulta ma mangiano sono animali parecchio opportunisti e mangiano quello che dove faticano meno quindi brucano in terra i fermi si mangiano i loro gamberi i cranchi sono pesci un po' meno predatori rispetto all'adulto cioè un po' meno predatori un po' meno predatori tiofagi perché sono predatori ma mangiano anche altra roba le spigole molto molto grandi mangiano quasi solamente molluschi e pesci ok molluschi e pesci e crostacei perché specialmente nelle aree io ho gli esempi qui perché ho campionato qui nel nord del Tirreno una preda tipica è il granchio il granchio di sabbia è una preda tipica che troviamo spesso come la spigola è un pesce che spesso è un pesce cannibale cioè spesso troviamo spigole grandi che si sono mangiate la ragnoletta di taglia media perché ci sono dei momenti in cui gli adulti belli grossi a caccia di proteine quindi nel prefrega entrano negli estuari e quindi trovano trovano le nostre spigolette adolescenti che sono lì in fase di accrescimento e se ce l'hanno a tiro se lo mangiano tranquillamente ok andiamo avanti con le nostre slide allora questo è sulla sinistra vi ho scritto un paio di commenti alla alla figura ok questa figura è una figura che ha fatto un po' fa un po' riassunto di quello che succede anche negli stagni costieri ok ho fatto un pochino una sorta di zoom nella situazione di quello che succede nella zona dove ci sono questi stagni costieri o addirittura allevamenti estensivi la differenza tra un allevamento estensivo e un allevamento intensivo di pesci ce l'avete presente più o meno allora l'allevamento estensivo è la classica laguna ok dove i pesci entrano in maniera più o meno naturale ci sono dei canali che possono essere dragati possono essere modificati in maniera artificiale orbedello cavra ce ne sono mille che vengono utilizzati per far accrescere i pesci ma fondamentalmente i pesci crescono in maniera naturale non vengono alimentati artificialmente o almeno non solo sono ambienti in cui può essere alto il livello di produttività ovvero l'acqua è calda l'acqua è non particolarmente pulita quindi tante alghe tante alghe uguale tanto plankton tanto plankton uguale tanta mangianza i pesci crescono in maniera più veloce rispetto al mare ok invece un allevamento intensivo sono le classiche gabbie che possono essere offshore o possono essere ci sono anche lo viste tante in grecia ci sono anche allevamenti intensivi all'interno delle lagune che prima erano allevamenti estensivi quindi lì invece l'allevamento è fatto in poco spazio altissime densità di pesci chiaramente le gabbie sono messe in posto in cui c'è un alto idrodinamismo ovvero tanta corrente in maniera tale che l'acqua ha un ricambio se no i pesci a un certo punto i prodotti i cataboliti i prodotti della digestione praticamente vanno a inquinare l'acqua e i pesci smettono di crescere i pesci negli allevamenti intensivi vengono alimentati invece c'è al 100% con il pellettato e l'allevamento pro classico nei carbionti ok qui praticamente c'è raffigurato cosa succede spazialmente nel ciclo che vi raccontavo prima ok praticamente cosa succede che nell'ambiente costale abbiamo i nostri adulti che vivono fino a una profondità di 100 metri più o meno cioè è un pesce che vive sotto costa in ambiente demersale non sono pesci che noi troviamo particolarmente profondi ok anche se insomma 100 metri ci fa capire che sì non particolarmente profondi però anche profondi c'è successo ma è successo a me personalmente che all'osrokes abbiamo visto un ragno veramente veramente grosso a una sessantina di metri insieme identici cosa che non ci avrei mai pensato probabilmente si muovono seguendo dei gradienti di temperatura cioè l'acqua particolarmente calda quando sono pesci molto grandi non gli piace tantissimo e quindi loro si spostano per andare a cercare un pochino di acqua più fresca dove stanno meglio come si è visto che anche questi pesci che stanno un pochino più fondi fanno delle migrazioni trofiche ovvero vanno in acqua bassa per cercare da mangiare allora i pesci grossi che stanno fuori si riproducono qui la dieta vabbè si vede un po' che gli adulti sono predatori opportunisti che mangiano dalla seppia alla sardina al granchio gambero insomma lo sappiamo lo sapete meglio di me sicuramente i pesci si riproducono fanno le loro ovette e qui c'è scritto un'altra cosa interessante che una femmina una femmina riesce a fare da 200 a 300 mila uova per chilo di peso quindi immaginatevi questo vi butto già là una cosa che la vedremo dopo per quanto riguarda l'etica della pesca immaginatevi il danno che fa in proporzione magari il pescatore ricreativo come siamo noi no ma la pesca professionale riesce a fare dei danni veramente grandi cioè fare scendere la spigola si calcola che dal 2009 ad oggi sto parlando dell'Atlantico perché i dati i dati più aggiornati sono dati inglesi ha avuto una riduzione della popolazione del 70% si parla del canale della Manica e del sud d'Inghilterra perché c'è stata una pressione di pesca incredibile fatta dai francesi ora con la Brexit sono un po' cambiate le cose e i grandi pescherecci industriali francesi non possono più andare a pescare nelle acque del canale della Manica ok un'altra cosa interessante che c'è qui se guardate le definizioni è che sono pesci che maturano piuttosto tardi ok una femmina o un maschio sono pesci riproduttivi a cinque anni ok sono dati anche questi dati che si parla del dell'Atlantico in Mediterraneo la crescimento è leggermente più veloce però si parla comunque di pesci di quattro anni ok tre quattro anni per avere un pesce che riesce a fare un ciclo riproduttivo un ciclo riproduttivo vuol dire 40 centimetri una femmina 30 centimetri un maschio ok questo dato tornerà fuori diverse volte perché c'è anche lì una differenza importante nei tassi da crescimento dei maschi e delle femmine le femmine della spigola crescono il 30% in più rispetto ai maschi parità di condizioni esperimenti fatti in allevamento parità di condizioni una femmina cresce il 30% in più ok andiamo avanti sesso nei pesci iniziamo a parlare del sesso dei pesci prendendo come esempio dei pesci che con le spigole non c'entrano niente questo perché perché qui come esempio ho preso una figura di un mio libro di anatomia dove si parla dello sgombro sgombro giapponico in realtà è il lanzardo non è lo sgombro è quello con i puntini però più o meno funziona funziona uguale qui come vedete la differenza è lampante no la figura B è un maschio la figura una femmina le uova si vedono bene che sono uova hanno questo colore più rosato si vede proprio il lovino questo colore rosato è dato da quella famosa gocciolina d'olio che vi dicevo prima questa gocciolina d'olio immaginatevi il rosso dell'uovo ha un doppio scopo perché a differenza dell'uovo degli uccelli o dei rettili l'uovo del pesce ha questa gocciolina d'olio che gli permette anche di galleggiare quindi serve anche per il dispersal cioè per diffondere visto che non sono pesci che fanno cure parentali hanno una strategia riproduttiva che si basa sulla statistica cioè faccio tantissime uova e le faccio diffondere il più possibile a differenza di altre specie di pesci mi viene in mente un pesce che abbiamo visto tutti il ghiozzo il ghiozzo fa il nido e fa le cure parentali ok sono addirittura ci sono addirittura dei ghiozzi che sono incubatori orali cioè si tengono le uova in bocca e si fanno schiudere le uova in bocca l'esempio più estremo di questa cosa è il cavalluccio marino il cavalluccio marino poi la vestia il maschio ha dei tessuti modificati davanti alla pancia dove si tiene e fa come se avesse la placenta dà da mangiare alle uova agli avannotti e poi li spartorisce tra virgolette invece la spigola come lo sgombro come tantissimi altri pesci ha una strategia riproduttiva che è agli antipodi ovvero facciamo tante uova ce ne freghiamo e facciamo queste uova che devono essere tante e piccole e con una gocciolina che le fa galleggiare in modo tale che si disperdano nella maggior area possibile questo per un mero calcolo statistico permette che si alzino i tassi di riproduzione come vedevate prima nella figura i pesci di prima sono pesci presi nel periodo riproduttivo ok perché questo vi sto dicendo perché i pesci a differenza di altri animali le gonadi non sono così sviluppate durante tutto l'anno si sviluppano si accrescono nel periodo della riproduzione e occupano quasi tutta la cavità addominale sono direttamente a contatto con la parete ventrale con quindi l'avrete visto mille volte quando uno va a pulire il pesce non c'è un ovaio cioè c'è proprio sono a contatto hanno una sacca ma sono a contatto con la parete la maggior parte dei pesci ossei e tutti i pesci cartilaginei hanno sessi separati ok vabbè i pesci cartilaginei hanno addirittura gli organi sessuali esterni come noi mammiferi la razza lo squalo si vede hanno i due emipeni il maschio dalla femmina si distingue piuttosto bene hanno la fecondazione interna qualcuno depone le uova qualcuno è uoviparo però hanno proprio un sistema totalmente differente i pesci invece i pesci ossei l'ottanta per cento sono specie gonocoriche cioè non subiscono nessuna inversione nessun cambiamento del sesso durante la loro vita perché vi dico questo perché invece c'è una piccola percentuale di pesci ossei telostei quindi pesci ossei che invece subisce l'inversione sensuale l'esempio classico è l'orata oppure la cernia sono pesci ermafroditi pesci ermafroditi vuol dire che anche che all'interno dello stesso pesce ci sono tutte e due tutte e due le gonade tutte e due gli organi però per un equilibrio di ormoni se ne sviluppa soltanto uno cioè questo nel caso che il pesce non sia perché c'è ancora un caso particolare all'interno del caso particolare che sono l'ermafroditismo sincrono nella stragrande maggioranza dei casi i pesci sono ermafroditi sequenziali cioè prima sono maschi e poi diventano femmine prima sono femmine e poi diventano maschi ok in una strettissima percentuale ci sono anche dei pesci che sono ermafroditi sincroni ve l'ho messo ve l'ho messo perché ci sono dei pescetti che noi incontriamo spessissimo che rompono anche un po' le scatole come lo sciarrano se erano scriva il sacchetto la perchia sono tra i pochi pesci che sono ermafroditi sincroni cioè hanno contemporaneamente sia gli organi sessuali maschili che gli organi sessuali femminili che funzionano tutti e due contemporaneamente ok invece l'ermafroditismo sequenziale cosa vi viene in mente un esempio classico quale può essere l'orata ok la cernia la 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 un caso ancora più interessante è la coris cioè le le donzelle le donzelle ok la coris iulis ha un comportamento fighissimo ovvero il il sesso è determinato da dalla società ok è una roba strana la la società i branchi i gruppi di coris iulis funzionano in questa maniera c'è un maschio dominante e un'aremma di femmine cosa succede se noi eliminiamo il maschio che è proprio fisicamente differente cioè all'inizio l'avrete visto qualche volta sott'acqua qualcuno è differente proprio il colore è differente la livrea è più grosso se noi rimuoviamo meccanicamente da un gruppo di coris rimuoviamo il maschio dominante la più grossa delle femmine decide di diventare un maschio cambia sesso e diventa lei il maschio che è una roba stranissima che sia la gerarchia sociale a determinare il sesso altro caso l'altro caso tipico è quello della cernia la cernia la cernia bruna praticamente diventa maschio da vecchia quando si prima si parlava di ermafroditi proterandri ermafroditi proterocini la cernia bruna è un ermafrodita proterandro ovvero nasce femmina e muore maschio ok quali sono i fattori che possono influenzare il cambiamento di sesso nei pesci possono essere immaginatevi due macro categorie ok quelli in cui il dna ha programmato il cambiamento di sesso in base all'età o le dimensioni la cernia ok l'orata e quelli in cui invece come la nostra amica spigola che per quello vi dicevo prima è un pesce affascinante perché è veramente strana nella spigola lo sviluppo dei caratteri sessuali è influenzato dai fattori ambientali questo è quello che ha permesso di poter allevare e di fare l'allevamento della spigola ciclo completo ok negli allevamenti viene modificato il fotoperiodo la temperatura in questa maniera si induce la frega ok il ragno ha degli organi sessuali particolari che si chiamano ovotestis in cui sul lovaio è inserito un testicolo sono tutto uno in base alle caratteristiche ambientali che la spigola trova quando è giovane cioè prima di arrivare a maturità sessuale decide tra virgolette se diventare masco se diventare femmina questo è una cosa piuttosto interessante è piuttosto peculiare di questa specie fotoperiodo e temperatura invece noi come al solito andiamo a barare noi intendiamo noi biologi marini e più di noi quelli che si occupano di scienze di produzione animali e induciamo la frega induciamo il sessaggio come? semplicemente somministrando gli ormoni questo ci porta anche però un problema ok il caso famoso è quello delle spigole del tamici che sono state studiate molto bene visto che la spigola risponde piuttosto bene alla somministrazione di ormoni esogeni umani cioè se gli diamo ormoni nostri lei decide se diventare maschio o femmina le spigole del tamici si stanno tutte mascolinizzando perché tantissimi ora meno perché è cambiato il sistema di depurazione ma gli ormoni sono molecole molto molto piccole l'escrezione di determinati ormoni avviene tramite l'escrezione renale quindi noi facciamo la pipì e nella pipì ci sono dentro un pochino di ormoni è il sistema con cui funzionano i test di gravidanza c'è stato un piccolo aumento degli ormoni esogeni da quando è stata inventata la pillola quindi le spigole del tamici si stanno maschilizzando cioè un calo della fecondità delle spigole per via dell'utilizzo della pillola delle donne inglesi Londra sono 8 milioni di persone un microgrammo di ormoni sessuali ormoni umani moltiplicato per 8 milioni di persone diventa una quantità sufficiente a influire su una popolazione in natura questo ci fa capire che siamo in un sistema chiuso siamo in una mega boccia di pesci rozzi e qualsiasi cosa anche abbastanza piccola va a influenzare tante altre dinamiche come vi dicevo prima lo sviluppo del lo sviluppo del sesso e la maturazione sessuale e la frega della spigola è influenzata anche dalla temperatura l'innalzamento delle temperature medie specialmente durante durante l'inverno sta anche quello andando a influire sul la fertilità della spigola cioè il fatto che le temperature si stiano alzando fa calare la fertilità e questo se sommiamo questo fattore con il prelievo molto pesante perché la spigola purtroppo per lei è un pesce di moda nella cucina un pesce molto consumato questi sono tutti i fattori che messi assieme vanno a creare quella catena di eventi che ha portato a una diminuzione così importante come vi dicevo prima del numero di spigole per esempio nell'Atlantico ok prima vi parlavo della frega il periodo di frega della spigola va da dicembre a marzo ok da dicembre a marzo una finestra abbastanza grande uno spazio temporale abbastanza esteso e è influenzato dalla temperatura se la temperatura supera i 9 gradi la spigola decide di riprodursi i riproduttori si radunano in grandi banchi dove c'è una una grossa femmina riproduttiva e tanti maschi ok uno il rapporto in genere è uno a 4 uno a 6 a seconda delle popolazioni la frega avviene in fondari bassi spesso generalmente in acqua e salmastre perché queste fungono da narseri la fecondità è relativamente elevata cioè ogni femmina fa tante uova si arriva fino a 230.000 uova per chilo di peso corporeo le uova sono medio grandi ok sono un millimetro un millimetro e mezzo hanno questa gocciolina d'olio che le rende pelagiche ovvero vengono trasportate dalla corrente fino alla schiusa lo sviluppo embrionale richiede pochi giorni quando le larve sono appena si schiude l'uovo quindi non mangiano ancora hanno ancora il sacco vitellino cioè il rosso dell'uovo sta dando da mangiare alla nostra larvettina sono tre millimetri e mezzo quattro arrivano alla fase di avannotto da larva diventano avannotto nel giro di un mese due mesi a seconda della temperatura di quanto da mangiare trovano quando la larva diventa avannotto tende a entrare e a risalire le foci dei fiumi e andare in acqua salmastra perché ci sono meno predatori perché trova più da mangiare ditemi se ci avete dubbi perplessità se qualcosa non vi convince se posso andare avanti no è affascinante vai avanti ma una una curiosità è parliamo di un riproduttore cinque anni 40 centimetri dopo Marco c'è una bella tabella io ho messo l'età l'età e i tassi di accrescimento e quello mi è interessato comunque se uno pensa cioè se uno vede i tassi di accrescimento si accorge che a volte si è mangiato un pesce di 30 anni almeno a me è successo di prendere un pesce molto molto grande sott'acqua e poi dopo anni capire che mi sono mangiato un pesce mio coetaneo povera bestia un pochino ti dispiace ok andiamo avanti allora la spigola iniziamo subito un discorso che interessa molto noi pescatori ok nella spigola non esiste un dimorfismo sessuale evidente ok quindi tutte le storie che io sento fin da quando sono piccolo sulla spigola col muso a punta la spigola col muso schiacciato e la spigola con le pinne a punta le spigola con la pinna concava confessa sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano ovvero allora se volete vi lascio i collegamenti vi lascio dopo la bibliografia che ho usato per fare questa questa queste slide esistono dei principi morfometrici per stabilire il sesso della spigola ok però calcolate che si parla di incrociare 13 fattori differenti ok vada solo che è una cosa che all'atto pratico è pressoché impossibile una cosa che invece possiamo notare in maniera lampante sono le sacche ovigere cioè la spigola ovata si vede piuttosto bene perché ha due belle sacche simmetriche belle grosse laterali e ha questa bella pancia e soprattutto il fatto che la femmina cresce il 30% più del maschio vi può aiutare cioè se uno prende un pesce molto grande d'inverno con la pancia è improbabile che si sia ingoiato una seppia cioè quella roba che vedete in realtà sono uova ok come vi dicevo prima la temperatura ha un ruolo molto importante questo interessa molto noi ma interessa tantissimo tantissimo quelli che le spigole le vogliono allevare ok perché le femmine crescono più velocemente ok e perché la natura ha un senso di giustizia per farda negli allevamenti il 90% delle spigole sono maschi e tra un pochino vi spiego anche come mai la temperatura vi dicevo che influisce influisce parecchio sul sulla differenzazione sessuale perché cosa succede praticamente più giorni vengono passati sopra i 10 gradi ok durante le fasi di maturazione delle gonadi maggiore è il numero di maschi all'interno della popolazione la cosa interessante è che se durante lo sviluppo e in seguito le temperature rimangono intorno ai 15 gradi maggiore o uguale ai 15 gradi praticamente la composizione la composizione dei sessi si riequilibria ok però c'è anche un altro meccanismo che interviene se questi pesci vengono esposti a temperature minore di 10 gradi per un periodo continuo cioè perché cosa viene in mente viene in mente allora alleviamo i pesci manteniamoli a temperatura sempre bassa se li manteniamo sempre a temperatura più bassa di 10 gradi di nuovo riaviamo tutti i maschi come si spiega questa cosa si spiega in termini di costo metabolico cosa vuol dire come vi dicevo prima la spigola è una specie della fecondità piuttosto alta ok quindi tante uova per chilo di pesce le uova rispetto agli spermatozoi per essere prodotte proprio per via di questa gocciolina d'olio cioè hanno un costo metabolico molto alto ovvero il pesce deve trovare deve stare meglio deve mangiare di più per sviluppare le uova rispetto che per sviluppare gli spermatozoi quindi se il pesce si trova intorno all'optimum è più facile che diventi femmina quello che vi dicevo prima che è una specie piuttosto affascinante perché sembra quasi che decida di che sesso diventare non lo decide è un meccanismo a feedback di decine di ormoni che uno interviene sugli altri però si regola in base a quanto da mangiare trova e in quanto sta bene questo spiega quei parametri di temperatura che vi facevo vedere prima ok l'esposizione a temperature basse durante lo sviluppo se un pesce di taglia medio medio piccola quindi ancora che deve avere un tasso metabolico cioè che deve crescere deve mangiare un sacco per crescere lo mettiamo in acqua molto calda quindi dove l'ossigeno disciolto non può essere più di tanto chiaramente sarà un pesce che ha uno stop nella crescita non sta così bene il suo metabolismo se l'ossigeno disciolto nell'acqua non può essere a saturazione chiaramente il suo metabolismo rallenta ok se invece questo pesce i pesci ricordiamoci sempre che sono animali a sangue freddo sta costantemente sotto a 10 gradi quindi tutto tutti gli enzimi tutte le robe che gli servono per funzionare rallentano funzionano in maniera molto lenta il metabolismo è molto rallentato dalla temperatura bassa rissiamo di nuovo in uno stop dell'accrescimento ecco perché c'è questo range di temperatura ok la spiegazione in termini di costo metabolico ci fa capire quella cosa che succede quella cosa strana che succede per le temperature cioè che deve stare non troppo al caldo quando è piccolo e non troppo al freddo quando invece è adolescente diciamo così ok la femmina e il maschio come si riconoscono qual è la cosa che ci permette di riconoscerli un pochino meglio a noi empiricamente cioè a noi pescatori non a noi biologi io biologo posso avere la fortuna di avere più pesci contemporaneamente magari appoggiati su un bel pezzo di carta millimetrata dove posso fare tutte le misure e magari posso mettermi anche a contare quante squame ha sulla linea laterale se io invece sono in pesca e devo decidere se un pesce rilasciarlo o no non è che lo posso tenere a schiumare in un secchio finché ne prendo un altro poi li confronto dico ah ma questo forse ha la pancia più tonda o meno no quindi la cosa che ci interessa è osservare la forma della pancia ok la forma della pancia della femmina a prescindere che sia ovata o meno è più tondeggiante ha un angolo più netto mentre l'addome del maschio è più lineare ora non so se qualcuno di voi pesca o conosce un pochino qualche pesce d'acqua dolce ditemi di sì o di no se il black cioè il boccalone il black bass più o meno ce l'avete in mente come è fatto aiuto non mi risponde nessuno il black non vi garba no io lo conosco il black bass ecco nel black bass c'è estremizzato quello che si vede nel ragno cioè le femmine già hanno quella pancia bella panciona e proprio la forma differente no se uno prende una femmina ovata di black o una femmina fuori dalla frega ma comunque una femmina non una grossa c'è quel buzzo che pare una cernia ecco nel ragno un po' meno ma si vede la stessa cosa poi è vero che in determinati momenti dell'anno se abbiamo la congiunzione astrale venere in congiunzione con marte ci abbiamo super culo magari vediamo anche la papilla anale la papilla anale cos'è la femmina che ha deposto c'ha dove c'è la cloaca cioè dove c'è il foro da cui i pesci fanno tutto perché hanno un solo buco è leggermente stroflessa è leggermente arrossata ma i motivi per cui si arrossa possono essere mille cioè lo stress tipo sia il pesce che prende lo shock termico cioè ci possono essere mille altri motivi che fanno arrossare i tessuti quindi non è così affidabile in letteratura lo troverete però boh secondo me il profilo della pancia è quello più affidabile e la taglia perché pesci molto grossi è molto difficile che siano maschi succede può succedere però è molto difficile dubbi cose che possono domande ok vado avanti allora qui c'è la famosa tabella che ve l'ho messa bella grossa allora la tabella sinistra sono praticamente le differenze di accrescimento tra i maschi e le femmine ok e questo vabbè ve lo potete guardare un pochino meglio ci sono praticamente le lunghezze i giorni sopra i 10 gradi e praticamente si vede lo scostamento nell'accrescimento tra i maschi e le femmine questo è un confronto invece la tabella a destra è esattamente quello che chiedeva Marco ovvero i valori assoluti la prima colonna a sinistra è la lunghezza in centimetri la seconda sono il peso stimato e quella a destra è l'età ok un pescetto di due etti scarsi 30 centimetri è già un pesce di due anni un pesce di 37 centimetri è già un pesce di quattro anni un maschietto di quattro anni una femmina di una femmina a maturità sessuale già arriva quando è 45 ok è un pesce di 4-5 anni quello che vi dicevo prima è che se voi guardate e fate un attimo mente locale e numeri vedete che i tassi di accrescimento man mano che il pesce diventa più grande rallentano ok c'è un picco una crescita esponenziale in cui c'è una curva con una pendenza rapidissima e il pesce cresce piuttosto veloce quando è di taglia da piccola a medio piccola poi rallenta c'è una sorta di plateau rallenta quando il pesce è adulto perché il pesce deve pensare a altre cose le famose uova e i famosi spermatozoi da maturare rallentano la crescita poi il pesce continua a crescere anche dopo che ha raggiunto la maturità sessuale però rallenta tantissimo ok io anni fa sott'acqua ho avuto la fortuna di prendere un ora ripensandoci non lo farei più perché ho trovato il famoso montone dei ragni che si ovvero una femminona abominevole e i maschietti intorno e come un rimbambito visto che ci avevo 19 anni preso dalla fregola ho ammazzato la femmina un pesce di 8,6 kg un pesce di 8,6 kg probabilmente già 20 anni 25 a seconda della produttività dell'ambiente ok quindi un pesce che è cresciuto nel mar Ligure o nel tirreno dove la corrente è abbastanza da mangiare ce n'è sì ma non ci sono foggi enormi dove può starsene vero tranquillo come che ne so la foggia del Tevere dove sono pressoché cerni e stanno immobili distanziali nelle brismate e mangiano un'ora all'anno che gli si accende il cervello sono pesci un pochino più che hanno un pochino più battagliato nella vita mi immagino che negli spot della Sardegna dove correnti mare mosso è ancora differente i pesci abbiano dei tassi di accrescimento ancora più lenti un pesce di 8,6 è un pesce che ha 20 anni ripensandoci ora probabilmente avrei cercato di fare una bella copiola di maschietti senza ammazzare la femminona questo si applica anche quando uno pesca con la canna magari la mega femmina vominevole gli fai tre foto e magari ti tieni in maschi nei paesi dove sono più svegli di noi questo è una battuta però noi si studia piuttosto bene è stato visto che l'approccio conservazionistico migliore al prelievo è trattenere le taglie medie e più avanti si vede perché cioè non mettere soltanto la misura minima ma mettere anche una misura massima del prelievo e permettere il prelievo soltanto delle taglie intermedie ok questo è il risultato di un test fatto qualche anno fa questo test andava a chiedere a pescatori ricreativi pescatori con la canna e pescatori in asnea andava a chiedere questo test qual era secondo i pescatori se era veramente necessario regolamentare la pesca della spigola ok questo test è stato fatto nel 2016 2017 quindi non si parla degli anni 80 e come vedete c'è il 28% che ha risposto che non sente la necessità di mettere una regolamentazione e questo per me sia come pescatore che come biologo è un po' un dato preoccupante perché vuol dire che non c'è percezione reale dei danni che possiamo fare il 33% ha risposto che era importante mettere un divieto durante il periodo di frega un 28% che la taglia minima era più importante solo l'11% dice di mettere un divieto durante la frega più taglia minima e il 28% che non c'era nessuna regolamentazione questo vi fa capire cioè si vede che c'è uno span abbastanza grande i dati sono distribuiti a parte divieto più frega che è molto in minoranza non c'è una netta predominanza di una risposta quindi se uno somministrasse un test avesse queste risposte a prescindere avrebbe subito l'impressione che le idee le idee sono piuttosto confuse su questa su questa questione ok interrompo un attimo la condivisione così sento un attimo di feedback allora cosa voi cosa mi dite di quest'idea di vieto frega di vieto durante taglia minima cosa cosa vi sembra l'idea migliore io una cosa so che sono un assassino io ho fatto fuori un esemplare di 10 kg che era più grande di me all'epoca sicuramente è una cosa molto importante questa perché innanzitutto un pesce grosso lo prendi per fare una foto perché poi se vai a cucinarlo non è neanche tanto semplice molto meglio un pesce di taglia media con anche un blocco eventualmente se serve per perché se solo pensiamo all'età che impiega per diventare adulta per un pesce che può produrre un miliardo di uova diventa un un danno insomma guarda Marco quello che dici si applica tantissimo oltre che alla spigola un esempio classico di questa cosa sono è una roba su cui io mi faccio venire il mal di stomaco è il prelievo industriale sulle specie di mare profondo ok cosa succede un esempio classico sono tutti i merlucidi il nasello il nasello sudafricano il pesce orologio sono tutti i pesci che vengono massacrati massacrati dalla pesca professionale e sono pesci che per ricostruirsi lo stock cioè sono pesci che ci mettono 50 anni a riprodursi cioè pesci con aspettativa di vita di 90 anni 100 anni perché vivono a 4 gradi metabolismo lentissimo noi non faremo in tempo a vedere il turnover cioè i pesci che stiamo pescando ora sono talmente tanti che in una vita media nel lifespan un cristiano cioè l'aspettativa di vita di una persona non fa in tempo a vedere ricostruire lo stock ittico se tu smettessi oggi il pescato e stiamo continuando a massacrare questi pesci che bastoncini findus sono fatti con sta roba è una roba aberrante i mangimi un altro problema grosso sono gli allevamenti intensivi che sono pesci alimentati a pellet fatto con queste specie di mare profondo che non hanno mercato e che magari vengono tritate per dar da mangiare salmoni per fare il sushi sono tutte robe abbastanza ansiogene dal mio punto di vista di tecnico su queste cose allora io vedo un po' di mani alzate mi farebbe piacere rispondere e poi magari vado avanti allora non ho visto chi l'ha alzata prima quindi Tommaso Cicillo io Andrea Grevi mettetemi d'accordo tra di voi vi rispondo a tutti più che volentieri Tommaso vai effettivamente alla luce di tutto quello che hai spiegato in maniera anche molto chiara fino ad ora ci hai fatto diventare un po' ansiogene anche a noi nel senso specialmente il discorso della spigola visto che l'argomento era appunto di questo intanto di questo pesce effettivamente mettere una misura minima e una misura massima probabilmente sarebbe una una modalità più più seria magari per attenzionare per far sì che queste specie si salvino più possibile insomma effettivamente il 28% che dice non c'è bisogno di regolamento a niente tanto come di tanto ce n'è tanto male non si fa danni anche questo effettivamente mi ha fatto pensare insomma vuol dire che tanta gente è quasi diciamo siamo arrivati quasi a un terzo dell'intervistata insomma non è poco mi ha fatto rimanere un po' così insomma quindi penso che queste anche questa puntata qui che ovviamente ne seguiranno ben altre anche su anche altre specie riescano a a farci capire un po' meglio come funziona quanto tempo ci mettono insomma effettivamente è molto interessante questa cosa qui grazie mille grazie a voi per il tempo che vi sto ammorbando con roba che magari interessa solo a me però ora devo vedere se riesco a trovare dei vetrini del tempo dell'università e vi voglio far vedere una cosa perché c'è il modo di contare esattamente gli anni dei pesci come si contano gli anelli degli alberi si contano i cerchi da crescimento o sulle squame o i cerchiettini che sono all'interno delle vertebre se ritrovo i vetrini da microscopio o se trovo qualcosa vi li faccio vedere perché sono robe interessanti allora io vai mettetevi d'accordo voi cicillo vai intanto interessantissimo il discorso tutto quanto in silenzio assoluto direi quasi religioso di tutte le informazioni che ci hai dato bellissime ci inducono a tantissime riflessioni e per questo ti ringraziamo per quanto riguarda quella tabella su cosa fare e cosa non fare il periodo di pesca della spigola corrisponde al nostro periodo migliore per la pesca quindi sarebbe quasi un controsenso dire fermiamo tutto e non se ne parla più penso che la soluzione migliore sia quella di continuare a sensibilizzare le persone e quello della taglia minimo massimo mi sembrerebbe la soluzione migliore perché costringere le persone a non pescare da gennaio a marzo quando è il periodo migliore per la pesca sportiva stiamo parlando chiaramente giusto della nostra tipo di pesca sarebbe quasi un controsenso invece sensibilizzare al migliore le persone e fargli capire quello che tu sei riuscito a forse capire a me personalmente in un'ora qua di approfondimenti tuoi certamente mi hai aperto gli occhi mai avrei pensato che la soluzione migliore in questo senso penso che sia se tu me ne dai conferma la definizione di pesca fra una taglia minima e massima cercando di fare il minor danno possibile del prelievo per quanto sia estremamente piccolo e irrisorio quello che fanno i pescatori sportivi perché tranne questo vanno a fare una pesca mirata proprio di oserei dire quasi di sterminio mirato ci sono delle persone che vanno a pescare con un assetto da guerra proprio non è più pesca sportiva è un altro tipo di pesca di cui si assumono le responsabilità o ci vivono praticamente o gli piace fare questo tipo di pesca quindi io sarei per la soluzione del minimo massimo insomma e poi mi affascina la migrazione delle spigole questi vengono da territori che sono plantoni ci sono a 100 metri mi hai detto più o meno e poi vanno vanno alle foci dei fiumi se li trovano e se sono scarsi questi si riproducono dove dove si riproducono allora diciamo che grazie per quello che ci hai ci hai fatto vedere e sentire Matteo allora diciamo che allora intanto grazie a voi perché insomma io sono cose che mi piacciono però vi sto rubando un sacco di tempo partiamo un pezzettino per volta allora sul discorso dei divieti giustamente quello che dici te io vivo sul mare in una località turistica cioè tra i piedi una marea di gente perché sono confine tra Marina di Masso e Forte dei Marmi quindi immaginati come farei a pescare come inizia la stagione no? immagino che in Sardegna siete messi uguali poi comunque la condizione con Di Meteo pesci che è chiaramente la stagione migliore si è visto si è visto che ci sono dei compromessi che funzionano piuttosto bene io prendo sempre come esempio gli inglesi non perché mi stanno particolarmente simpatici ma perché hanno percepito già da parecchio tempo la necessità di regolamentare in maniera sono un popolo pragmatico gli inglesi da questo punto di vista hanno capito due cose fondamentali che un ragno vivo porta molto più soldi di un ragno morto che la pesca sportiva gira un sacco di soldi sia di indotto che di negozi che di charter e hanno trovato hanno fatto un po' di studi scientifici si sono basati sui numeri e hanno trovato dei compromessi molto molto intelligenti dal mio punto di vista un compromesso intelligente è vietare la pesca in determinate maniere determinate maniere vuol dire col vivo la pesca con la sandil che è un pesciolino tipo il ceciarello nelle aree di narzeri cioè determinati estuari dove è risaputo che ci sono i ragni in accrescimento o i ragni dei riproduttori grossi vietiamo quel tipo di pesca ok non vietiamo altri tipi di pesca perché si è visto che certi tipi di pesca hanno sui pesci pescati e rilasciati se li peschi con una determinata tecnica ne muoiono di più che se li peschi con un'altra tecnica hanno messo la taglia massima e la taglia minima hanno messo un numero massimo di pesci pro capite pescabili hanno messo per esempio il ban non cioè la proibizione non per i pescatori ricreativi ma per la pesca professionale hanno messo le quote come per il per il tonno rosso anche sulla spigola quindi probabilmente la strada che porta a casa è trovare un compromesso e trovare visto che ci sono gli studi però sono studi fatti ambiente specifici bisognerebbe fare un pochino di investire un pochino di tempo investire un pochino di soldi per capire per ciascun'area cosa funziona meglio e chiaramente il discorso di taglia massima taglia minima è la prima cosa che funziona subito perché te eviti che la gente ammazzi i pesci che non si sono ancora riprodotti e non accoppi i pesci che sono grandi riproduttori questo è nell'immediato per fare da tampone iniziare a fare il resto delle leggi è la prima cosa che funziona come anche fare un po' di controlli in più evitare che la gente metta i paretoni senza avere magari neanche la licenza e metta un terramare in terra nei canali sapendo che peschi tutti i pesci ovati fregando perché tanto i ristoranti li comprano uguali purtroppo è un problema anche presente da noi io la prima cosa che vieterei sarebbe la pesca col vivo perché è quella che a mio parere fa i danni maggiori insomma e poi ci sono quelli che invece di sportivo hanno molto poco che pescano con le bilanci all'ingresso dei canali delle lagune delle peschiere tipo Cabras per citarne una a caso dove c'è qualcuno che va ci pesca con le bilance e poi va in spiaggia e fa le foto in spiaggia con dieci spigole qui si tratta non solo di sensibilizzare qua si tratta di educare proprio la gente ma non solo chi pesca ma anche oggi i social hanno fatto un danno enorme secondo me perché tu vedi gente che prende 3-4 spigole al giorno 3-4-5 chili quindi tutte prede che hanno decine d'anni ognuna che sono dei grandi riproduttori e tutti quanti gli dicono che è un figo che è il numero uno che è il migliore sto gazzo stai facendo un danno enorme poi mi possono dire che la pesca professionale sì ma se noi andiamo a puntare il dito sempre sugli altri non migliora mai un cazzo cioè se dobbiamo cambiare qualcosa dobbiamo iniziare a che noi siamo responsabili del nostro cambiamento non di quello degli altri e questa è una cosa che purtroppo presi dall'euforia della popolarità non tutti stanno a guardare però questo è solo il mio pensiero Cinzia Marco hai centrato due punti ora rispondo a un paio di cose poi ti racconto un episodio Cinzia vai tu ok al di là del fatto che sono d'accordissimo come chi mi ha preceduto con la taglia minima e la taglia massima la cosa che mi sento in quanto appartenente anche al settore dell'agonismo di dire è anche che dispiace che risorse del genere come il nostro Matteo che è entrato in famiglia manchino anche in quelle che sono le considerazioni a livello agonistico perché come ben sapete e purtroppo è pubblica questa cosa da regolamenti federali le prede valide partono da tredici centimetri ora ho scattato la foto alla tabella proprio per vedermela un attimo con calma parliamo di una preda che mediamente pesa anche meno di cinquanta grammi e le massacrano quindi per me questo tipo di lavoro andrebbe fatto non solo di sensibilizzazione per i pesca sportivi per chi è amatoriale ma è soprattutto come primo esempio di chi come me appartiene all'agonismo io penso che poiché ecco anche dati i media tutto quelle che sono le varie pubblicità eccetera se si cominciasse anche in questo punto rapportandosi con persone esperte in materia come te Matteo anche l'agonismo dovrebbe cominciare a dare dei bei giri di vite di rispetto alle varie specie ittiche per poterle salvaguardare e a turnover avere prede molto più belle da poter insidiare anche in gara sento rispondo Andrea e poi anche lì c'è un sono finito dentro una polemica infinita ma dopo te la racconto Andrea no io volevo introdurre un paio d'argomenti sì che magari risponde a Cinzia dopo te li te li espongo e complimenti perché è veramente molto interessante quello che stai dicendo allora partiamo da Marco che ha detto prima una cosa giusta allora la pesca col vivo giustamente pone un sacco di problemi ok per me da biologo la pesca col vivo mi fa vedere tanti problemi perché è una pesca fintamente selettiva cioè è selettiva ma selezioni la taglia andando a pescare ora nel periodo nel periodo riproduttivo vai a prendere i riproduttori ok mi fai un danno i pesci che usi per come vivo ad esempio c'è qualcuno che Cinzia viene dal mondo della dell'agonismo in mare no però se uno pensa ai danni che ha fatto la Fipsas con il pesce bianco e ha portato un giro all'Octon i malattie nelle acque interne è un danno un disastro guarda anche lì io andrei in giro con Rottenone a bottiglie per far fuori tutti i siluri del mondo siluri anche Gardon tutti questi pesciolini carini che se uno pesca in Arno a Firenze non c'è più un cavetano però c'è c'è qualsiasi roba vabbè questo è un altro di si apre il vaso di Bandora Marco ha detto una cosa che io per quello ho detto Marco poi ti racconto un episodio un problema grosso poi un altro problema del vivo è che il vivo può essere un vettore di malattie ok la pasturella la furuncolosi che ogni tanto il virus il virido virus quelli che hanno fatto fuori tutti i pesci gatti da tutta Italia sono robe che si spostano abbastanza facilmente ok con l'acqua del vivo con i retini con il pesce stesso viene fuori un po' cioè ci sono tanti motivi un'altra cosa molto giusta che ha detto Marco perché io ho vissuto sulla mia pelle è il dramma social il dramma voyerismo il dramma dei pro staff il dramma di quelli che per tre artificiali in una scatola da renicola sputtanano un posto e non capiscono niente Brando che mi conosce molto bene che siamo anche vicini geograficamente conosce la situazione di una zona dove pesco da anni dove non pesco da anni pur essendo imballata di spigole perché in simpatria cioè vivono nello stesso posto le spigole e il lucci se te vai a pescare le spigole io sono un pescatore a spinning per il 90% non puoi pescare col cavetto non puoi pescare grosso e di lasciare visto che il luccio va in frega ora come ci va in frega il ragno di lasciare un artificiale in bocca a tutti i lanci a un luccio che poi di muore mi sembra una roba da rimbambiti e magari non mi faccio la foto con la mega spigola che ora in questo spot c'è pieno e magari non me ne frega niente di fare il figo su facebook e mettere la foto no purtroppo questo spot invece è stato sciupato da tre o quattro rincoglioniti qualcuno sponsorizzato qualcuno ganso o qualcuno che gli garba tanto grazie a queste robe che a pesca chiusa è andata a fare tutte le fontine per poi fare pigliarsi la responsabilità la sponsorizzazione da Shimano perché magari gli piglia due soldini perché purtroppo è brutto da dirsi ma c'è anche un pochino di giro di soldi e tanta gente che non credo neanche che sia la fame perché si riescono a mantenere i Boston motorizzati vene però per 100 euro venderebbero la nonna altro problema abbastanza importante come non ci sono non ci sono i controlli sui ristoratori perché io sono un frequentatore da anni e anni della Corsica perché storicamente nasco come pescatore in apnea poi pescatore a spinning per tanti anni ho fatto gare e c'è stato un periodo che sponsorizzato Cressi si andava in Corsica a pescare in Corsica gli dagli la coda e una binna ai pesci che peschi sott'acqua e se al ristoratore gli trovano un pesce col buco perché un pesce preso con l'arbaletto si vede abbastanza bene a me pescatore subaglio magari mi sequestrano l'attrezzatura a lui gli vendono un ristorante ti strapano la licenza e risolvi il problema da noi penso che sia fantascienza pensare che facciano un verbale perché uno ha una spigola pescata senza senza la fattura o magari cioè si trovano ancora le cechine i datteri che insomma è come ammazzare un panda o comunque vi ricordo che noi tutti gli anni paghiamo fior di multe fior di moratori alla comunità europea perché continuiamo a mangiare e a commercializzare le anguille cioè per la IUCN che è l'ente che si occupa dello status di conservazione degli animali l'anguilla anguilla cioè l'anguilla europea è più minacciata del panda cioè se io mangio il carpaccio di panda si incazzano meno che se mangio un'anguilla al cartoccio ok e continuiamo tranquillamente a trovarla in vendita se no a Comacchio chiuderebbero tutti esatto no no ma devo stare attento perché i sardi mi picchiano che sono l'anguilla alla braccia mi picchiano in branco mi picchiano se gliela tolto ma guarda se è per questo anche in Campania ne vanno pazzi però sarò anche l'unica mosca bianca ma io no io Matteo ti volevo fare due cioè volevo porre diciamo due argomenti uno era una mia curiosità perché non ho sempre sentito parlare da relativamente a succedono i periodi dell'anno che rompono i retoni degli allevamenti e c'è queste ondate di spigolette microscopiche da che sono tutte uguali in fotocopia e c'è la gente che fa le sacchettate giù orbetello in tutte queste zone qui dove ci sono insomma dove c'è parecchia presenza di questo e logicamente vedi le frotte di persone con attrezzature di tutti i tipi che si fiondano a fare i veri sacchi neri pieni di pesci logicamente quello che dicono tutti è sì quelle sono le come le trote pollo sono le spigole pollo che danno a tutto quanto è la capacità se a livello di statistiche di studio e tutto di queste spigole di allevamento di riandare a popolare quella che è la fauna serbatica se c'è ho fatto degli studi sono stati fatti degli studi se vuoi ti ricerco però ora non ce l'ho sotto mano ti posso dire che è bassissima ok è bassissima per più motivi il motivo uno è che il 90% delle spigole che scappano sono maschi quindi proprio per il discorso della taglia che si diceva prima ma poi proprio perché in allevamento visto che le condizioni i pesci allevati vengono allevati come poli in batteria ok quindi spinti tantissimo queste condizioni di superaffollamento acqua medio calda mangiare mezzo e mezzo fa in modo che le spigole sono tutti maschi cioè c'è una femmina ogni nove quindi questo già ti fa calare tantissimo la capacità riproduttiva seconda cosa sono pesci che sono abituati a mangiare solo esclusivamente pellet quindi durano mezza giornata perché non trovano a mangiare non hanno non hanno tutto quel pacchetto sono proprio diversi anche a livello fisico quasi a volte li vedi sembra quello che ci stavo arrivando che è un quello invece è un problema cioè i pesci che te hai in allevamento non sono i pesci del selvatico perché per ovviare al problema dei tassi da crescimento ridotti dei maschi all'interno degli allevamenti non si alleva il ragno mediterraneo ma si allevano degli strain cioè delle linee delle selezioni zootecniche come i polli d'allevamento sono gli amrock i polli da da carne che sono tutto petto lì sono delle la maggior parte sono di ceppo atlantico perché crescono più veloci e poi sono ibridi strani tra quelli atlantici e quelli mediterranei incroci fatti sono varietà zootecniche come che ne so le trotte puccini quelle con i bolli grossi e sono pesci che sono abbastanza esigenti dal punto di vista nutrizionale mentre un pesce selvatico riesce a sostenersi e a crescere bene e arrivare alla maturità sessuale mangiando il gambero la renicola quello che trova questi sono pesci sono varietà zootecniche spinte come se te prendessi una mucca frisona da latte che fa 36 litri di latte al giorno e la provi a campare d'erba ti muore in una settimana perché diviene diventa anemica e ti muore e i pesci d'allevamento succede spesso la stessa cosa ho fatto questa domanda perché poi tanto li pescano tutti cioè durano tre giorni quando si sono ruote le gabbie a lavagna i pesci sono durati una settimana perché li hanno fatti fuori tutti c'era la gente che ci andava davvero col sacco nero il problema non si pone e poi a livello di regolamentazione sicuramente lo conosci meglio di me hanno fatto un acqua interna il discorso dei segnalature dei fesserini segnalature potrebbe però logicamente devono essere seguiti da dei controlli perché se non fai controlli non puoi pescare più di due ragni a persona a procapite al giorno c'hai segnalature c'hai tot ragni a stagione come noi in Italia si è fatto l'inna in magra e hanno fatto l'acqua classificata a salmonidi sì sì le ZRS funzionano un po' tutte così per la spigola per esempio ci sono delle zone dell'Inghilterra che sono a regolamento specifico e poi c'è il regolamento ma ci dovremmo arrivare per forza perché sono regolamenti europei e li dobbiamo ricepire anche i pescatori ricreativi i professionisti sono già incazzati perché non lo vogliono fare però gli toccherà adattarsi per forza alla fine hanno fatto un censimento bene o male il famoso registrazione compagnia bella che dovrebbe invece portare a qualcosa di questo tipo allora io rivedo un po' di domande in giro vedo Luca Luca Girometti che non ho ancora sentito bravo poi cicillo e Marco Picchiandi scusa Andrea senza preamboli fai la domanda e ascolta la risposta per favore ma Marco mi sa che Andrea gli è rimasta la mano alzata era la domanda di prima sì però senza preamboli cioè ascolta la risposta senza sì sì no perché abbassi il tono a lui non per altro vai Luca no è una serata molto interessante a livello mi sta piacendo molto anche perché io comunque spesso capita di parlare o comunque di intercedere con la biologia del mare per ovvi motivi stava dicendo Matteo il discorso del nasello dall'anno scorso il nasello sono state create a livello normativo le zone di non pesca in tutta Italia per la riproduzione sicuramente su informazione della biologia marina questa a livello questo è a livello europeo poi è stato normatizzato in Italia quindi ci sono delle zone dove non si può più pescare a livello di strascico cioè non è proprio interdata la pesca proprio per facilitare la riproduzione del nasello questa è una notizia non so se ne sia corrente Matteo è quello che stavo rispondendo prima quando si diceva che sono normative europee che dobbiamo ricevere per forza il nasello è una di quelle perché gli stocchi i tigli li abbiamo azerati non ce n'è più infatti l'anno scorso sono state create queste aree qua anche in Italia diciamo ci siamo ci siamo allineati il discorso dell'anguilla lo stesso come sai bene è normalizzata quindi ci sono dei momenti dell'anno che viene cioè si può pescare solo in un determinato tipo momento e viene controllata molto da questa parte o meglio siccome io lavoro una guerra costiera quando noi usciamo questa cosa abbiamo particolare attenzione perché non tutto quello che vediamo nel banco è anguilla è anche altra cosa ciò che arriva nel banco non è sempre soprattutto nel momento natalizio che è già chiusa in periodo natalizio la pesca dell'anguilla l'anguilla c'è la storia dei capitoni che portano anguilla a rostrada perché nel periodo di Natale non c'è non c'è modo di pescarle si l'anguilla l'anguilla perla solo tre mesi l'anno che sono gli mesi autunnali dopodiché l'anguilla l'anguilla viene chiusa e si pescano come detto le fila trota insomma tutta questa roba qua abbiamo l'allevamento ad esempio a Portopini in Sardegna si le allevano qua che poi la metà vengono esportate nella zona di Napoli perché nella zona campana sono grandi consumatori come ha detto anche i cinzi una cosa che sono curioso da sempre come la normano il discorso perché l'anguilla l'anguilla non è allevata è accresciuta ingrassata perché praticamente il ciclo di riproduzione dell'anguilla è uno dei misteri della velocità marina non ci si capisce niente l'anguilla come tu hai detto è un mistero tanto è vero che che vendono sono comunque roba accresciuta e basta ingrassata magari in laguna l'anguilla qui la pescano in laguna solo tre mesi l'anno con i Bartovelli aspettando l'uscita di come si aprono praticamente i fiumi dopodiché viene quasi chiusa quasi subito e ci prestiamo particolare attenzione su questo discorso tanto è vero che quando si fanno i controlli i controlli non è che non si fanno si fanno non è possibile effettuarli a livello capillare in tutta Italia perché perché non siamo tanti siamo pochi siamo meno dei vigili di Roma quindi la storia dei concorsi è il dramma non è non è facile andare in città come Milano posti così a fare controlli perché siamo troppo pochi anche se comunque si fa si fanno i controlli ecco tutta tutta questa roba qua poi comunque c'è anche una scarsa educazione in Italia purtroppo abbiamo questa cosa qui dalla scarsa educazione niente volevo dirti questo non è sempre semplice nel discorso controlli poi qui abbiamo anche una serie di pesche che si effettuano tipo con le lagunali tipo se tu vai che qui si usa la farca molte volte tu trovi i pesci che sono punti però magari sono pescati con un attrezzo che sta regolarmente in licenza e quindi fa parte di uno di una cioè nella nella filiera del controllo che viene deve essere controllata tipo il metodo di produzione è un po' questo che poi viene trasmesso in tutta la commercializzazione dei prodotti commestibili come se tu compri un pacco di pasta che deve essere da dove chi lo produce però una cosa mi ha mi ha affascinato questa cosa qua delle delle alghe mi ha aperto delle diciamo degli degli spirali di veduta come mai le alghe sino a quante che loro si diventa grande cioè rimangono anche sotto costa quindi in pratica cioè le le spigole rimangono prevalentemente sotto costa mentre prevalentemente sotto costa ora in Sardegna non so come se avete meno foggi rispetto a noi da noi ci hanno la scappatoia delle foggi degli estuari dove entrano e trovano magari condizioni di ossigenazione condizioni di temperatura più o meno costanti si spostano più dentro più fuori delle foci invece nelle isole o nelle zone con meno foci si spostano si spostano a livello di profondità cioè vanno più o meno fonde a seconda della temperatura però non è un pesce particolarmente è comunque una spiaggia demersale che sta sotto costa cioè pesce che è difficile trovarlo su una secca 15.000 a fondo più facile che lo trovi in terra ok grazie Cicillo la domanda è chi sapeva che le anguille sono in estinzione per dire quanti di noi pescatori sportivi sappiamo delle specie che andiamo a pescare e perché come pescatori sportivi non abbiamo un patentino che possa almeno dirci le regole base delle specie ittiche come i cacciatori hanno il patentino per andare a caccia Matteo il vostro ordine riesce a schiodare qualche cosa in senso positivo dai nostri governanti come al solito la risposta la sai già purtroppo purtroppo siamo pochi frammentati come diceva prima non riescono a fare i controlli perché sono sotto organico la guardia di agrostiera immaginati come si è messi noi immaginati solo che la federazione che dovrebbe essere anche un organo di salvaguardia quindi non solamente di promozione agonistica ha diminuito le taglie le taglie minime quando abbiamo iniziato noi a fare qualcosa di agonismo la taglia minima era 400 grammi adesso non si parla più di grammi si parla di 15 centimetri cioè la federazione che per prima dovrebbe essere un organo di salvaguardia di tutela ambientale fa ste cagate per agevolare gli agonisti perché altrimenti non prendono un pesce insomma e da lì poi tutte le tecniche che si sono evolute hanno fatto il percorso al contrario invece che capire che la riduzione delle prede cioè i settori in cui non vedi ne tocca invece che capire che il problema è quello hanno passato la taglia minima per tenere dentro sì purtroppo all'interno della federazione non ci sono esperti diciamo che chi conta a livello federale non è né esperto di pesca né esperto di biologia né si pone il problema questa è la realtà tutto lì si pensano solamente al risultato di una gara il risultato di una gara lo puoi ottenere solo in questo modo con pescetti di galla così piccoli doviglio oviglio cioè perché in effetti quando si parlava noi abbiamo iniziato a parlare di surfcasting agonistico per noi l'agonismo fatto così con surfcasting non ha niente a che vedere non esiste non può esistere poi l'hanno trasformata in una specie di canna d'arriva e adesso stiamo arrivando a livello di bolognese perché altrimenti le gare si chiudono con un nulla di fatto insomma però l'agonismo è una fetta importante per carità andrebbe solamente disciplinato meglio quanto meno per queste specie insomma e per e con una conoscenza seguiti da un biologo da un'autorità competente perché questi non ci capiscono nulla quindi se dovrebbe partire loro hanno voce in capitolo purtroppo però non fanno niente per migliorare le cose Marco Picchianti comunque questa storia dell'anguilla non la sapevo neanche io però è vera una cosa che noi in Sardegna per esempio quella che mangiamo di più è la fila trotta quindi anguilla quasi non è toccata poi Marco ti ricordo che anche quelle che vendono per anguilline come esca quelle sono fila trotta perché l'anguilla a differenza dalla fila trotta cioè la pelle è più verde è più sul verde ed è più tenera questo me l'ha spiegato sai chi me l'ha spiegato mio suocero che tutte le volte che noi li portavamo ma è anguillino questa è fila trotta come fai a riconoscere perché la pelle è più verde penso che Matteo possa confermare questa roba perché la prima volta che la sento nominare la fila trotta devo capire diciamo che è un termine che usiamo noi in Sardegna sì no no ma volevo capire perché dal punto di vista sistematico secondo me è anguilla anguilla anche lei cioè soltanto una taglia però è lo stesso pesce guarda guarda Matteo mio suocero quando me ne parla mi dice che l'anguilla anguilla rimane cioè la pelle è più verde ed è molto più ed è meno spessa della fila trotta cioè più fine allora io ti dico poi l'anguilla è un mondo strano in Europa c'è solo una specie di anguilla che è anguilla anguilla basta in America c'è l'anguilla rostrada fine delle anguille poi ci sono tutte le anguille dell'oceania che sono un sacco di altre anguille strane ma che nel bacino mediterraneo c'è solo una specie di anguilla questo questo te lo posso sottosmettere due mani un piede l'orecchio sinistro che è quello buono sul fuoco si può anche vedere perché sai un'anguilla si può anche prendere si può vedere sarebbe interessante fare un test genetico perché andiamo a finire tutti sui libri perché abbiamo scoperto una specie guarda Matteo ti invito ti invito a venire dalle mie parti allora perché qua c'è quale allevano a Portopino noi tant'è vero quando è uscita la norma abbiamo dato parecchia attenzione a questa roba qua perché andando nei facendo i controlli nelle nelle negli ingrossi una volta c'era uscita perché stiamo in divieto di pesca dell'anguilla e attenzione quando le abbiamo prese e ci davano avevamo visto sul documento commerciale l'anguilla ci stavamo per diciamo stavamo per verbalizzare il grossista e la barca che poi invece mangiate una marea di verbali che potete fare diventate risollevate il bilancio ad una regione ma guarda che già di verbali noi ne facciamo tanti non pensare non se ne fanno tanti guarda Luca sono certo insomma la sistematica dell'anguilla è abbastanza chiara l'anguilla è l'unica anguilla che c'è in Italia lei quello sono certo di poche cose ma di questa sì però però qui però qui ti dico che da punto di vista normativo come funziona lo sai sicuramente meglio te di me quella levata quella levata è una cosa è anguilla anguilla pescata è un'altra di questo ne sono sicurissimo e ti dirò di più che proprio i pescatori quando le prendono ti dicono questa è anguilla anguilla quella fila trotto te lo dico perché mi piace recuperarmi un testo qualcosa di medicina veterinale ti mando la norma ti mando domani ma la cerco perché sono proprio una roba che mi interessa tanto perché non è la prima volta che la sento ma ora sai cosa faccio adesso quando la prossima volta li facciamo quando le vanno a pescare i pescatori quelli che mettono i bartovelli li faccio proprio le foto a una e le foto all'altra e te le mando perché io se mi dici di guardare questo come tu le hai descritte le spigole insomma non sono esperto come te naturalmente però di una cosa ne sono sicuro che loro le descrivono e anche io le ho viste che sono più verdi cioè sono proprio c'hanno questo colore verdastro non è grigio è verdastro è un po' diverso il colore della pelle allora grigio e verde se vuoi ti spiego io la differenza che è quella tra l'anguilla cioè sono due fasi del ciclo vitale la migrazione dell'anguilla un pochino ce l'hai presente come funziona? no no su questo ne sei più tu di me se vuoi Marco ci facciamo una puntata apposita sull'anguilla io le foto ma è il caso di rifarla sì se vuoi se ne può parlare è bella cioè l'anguilla è un bel una bella puntata se la vuoi fare interessante sì 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 anche perché so di che cosa parli insomma quindi sì è una roba figa io le foto scusate se mi ho interrotto no guarda se ce le giri sul gruppo sono curiosissimo sì per la resta le giro grande ottimo allora andiamo a Marco Picchianti ciao Matteo i complimenti tanto te l'hanno già fatti tutti puntata interessantissima niente io hai toccato un attimo un argomento e poi abbiamo parlato di altro mi interessava anche il discorso del catch release nel senso che sicuramente nella tecnica spinning è quella che fa meno danni quando poi si va a rilasciare il pesce nel caso nostro invece di pesca dalla spiaggia con gli ami e quanto è utile quanto diciamo fa poco danno il catch release nel caso delle spigole allora Marco mi hai fatto un assist perché ci abbiamo proprio un paio di slide apposito su questa cosa perché ci sono un po' di dati scientifici e un po' di numeri sui tassi di sopravvivenza dopo dopo rilascio sia con le esche naturali sia con le artificiali e c'è il modo di rilasciare i pesci senza fare grossi danni anche pescando con le esche naturali l'unica cosa era il discorso magari della profondità di ingoio dell'amo rispetto magari all'artificiale banalmente se il pesce ingoia c'è da tagliare non gliene frega niente al pesce di avere un amo in gola gli fai peggio a cercare di slamarlo ma anche pesciolini di 15 centimetri con un amo nel 6 ingoiato non gliene frega niente a parte che lo dissolve per i fatti suoi se non erro ora non so se da noi c'è già però un giro per il mondo stanno vietando di aminox specie per la besca professionale nel mondo anglosassone per la spigola sicuramente sulla costa atlantica non so se anche in inghilterra però di sicuro in america stanno incrementando proprio da regolamenti da legge l'utilizzo dei circo look perché fanno meno danni si infilzano meno negli organi interni fanno meno calzini questo è solo il circo look io per esempio non sono in grado di pescarci quindi questo è un altro problema perché cambia cambia tantissimo proprio la maniera in cui ci peschi e però già il pesce tagliare il filo invece che cercare di slamarlo aumenti in maniera drammatica la possibilità di sopravvivenza e due o tre cosine su come lo maneggi dove dove lo lo tieni se lo slami una roba che sembra scema pescare col guadino anche a surf e slamarlo dentro il guadino ci sono due o tre robe banali che uno ci mette cinque minuti ad adottarle che però ti permette di salvare un sacco di pesci poi ne parliamo dopo allora Alessandro la mia domanda nasce dal fatto che ho letto il report di una ricerca che ha fatto il dipartimento di biologia all'università di Trapani che forse conosci hanno monitorato alla riserva dello zingaro dei saraghi per un periodo applicando dei ricevitori gps quindi hanno monitorato il loro movimento insomma sono stati registrati dei dati che sono fruibili pubblicamente mi chiedo se nell'ambito della spigola esistono ricerche di questo tipo è un'altra cosa se noi pescatori sportivi in qualche modo possiamo diventare dei tecnici in questo senso nel mettere nell'offrire a voi biologi un contributo tecnico anche applicando dei sistemi gpsa alla big alla grossa spigola di modo che il mondo della biologia morina possa attingere informazioni da questo Alessandro sì allora lo studio fatto sulla ricerca dello zingaro e il saraghi conosco dire affatto che per esempio Alessandro Tirarongo è molto molto bravo su queste cose però non conosco lo studio perché è uno studio recente io era già tanto che sono uscito dall'università quando è stato fatto ci sono tanti studi fatti in Inghilterra sulla spigola che somigliano un po' agli studi che abbiamo fatto noi in Mediterraneo sul tonno rosso cioè un sistema che funziona molto bene in cui il pescatore sportivo è parte attiva della ricerca è il tagging dei pesci pescati i sistemi GPS sono costosi i tag no perché è un pezzettino di nylon con un ardiglione e sono molto facili da spiegare come si utilizzano quindi lo puoi spiegare anche davvero al vecchietto di 80 anni che ci sta tutto il giorno a pescare quindi può taggare tanti pesci e sono molto utili perché ti permettono sia di di vedere gli spostamenti se pesci li ripeschi sia di vedere i tassi da crescimento e tanti numeri di quelli che ho dato prima vengono fuori proprio a questi studi una cosa che secondo me ma quello è un mio pensiero avrebbe una ricaduta molto importante di questo tipo di studi di questo tipo di diciamo traducendo in maniera brutale ricerca del popolo come direbbero gli inglesi è responsabilizzare i pescatori cioè se io rendo parte attiva di uno studio e ti do il report ti faccio capire che quello che fai è utile per sia capire meglio come funziona l'ambiente marino capire meglio come tutelare quello che ti sta facendo divertire secondo me le persone sarebbero molto più collaboranti perché io per mio carattere non sono uno che crede molto solo nei metodi repressivi questo sarebbe una sorta di rinforzo positivo una maniera di premiare la gente e fargli fare più volentieri determinate cose se posso un'altra piccola domanda la prima grazie vai vai sì sì la prima slide che hai fatto vedere era di due spigole su un manto di posidonia ci puoi dire un po' di questa catena alimentare qualche cosina in più come si nutre e se in virtù delle correnti quest'alga è in sospensione se lei sa nutare lì dentro insomma questi aspetti un po' lecce di posidonia sono degli ottimi ambienti per le spigole in accrescimento sono ottimi posti dove la spigola trova un sacco da mangiare è un cacciatore opportunista quindi mangia volentieri cose dove ha tante calorie e faticando poco quindi la seppietta il gambero sta roba la posidonia specialmente in mari puliti esempio Sardegna Corsica dove non sono lagune non sono estuari quindi l'acqua è pulita c'è poco mangiare in sospensione diciamo così questi retti di posidonia aumentano il livello di produttività cioè creano delle zone fertili come l'humus nel bosco le foglie la lettiera dove ci crescono tante robe è uscito qualcuno vabbè ora guardo dove ci sono tanti microrganismi e quindi si innesca una catena alimentare bella articolata quindi ci trovano tanto da mangiare questa è una cosa fantastica perché allora empiricamente sempre no io sono stato uno dei primi a scoprire che ad inseguire le alghe durante le battute di surf ci pescavamo i saraghe ci pescavamo un po' tutto insomma all'inizio mi davano un po' dello scemo poi abbiamo invece fatto una puntata proprio sulla sull'inseguimento delle alghe e tu vedi hai detto una cosa che mi rincuora perché empirico sì però sbagliato no io pensavo che fosse solamente dovuto al fatto che le alghe comunque ci davano la direzione della corrente ma oltre a Marco hai detto due cose molto giuste empiricamente hai fatto due ragionamenti geniali dove te trovi le alghe vuol dire che è come in fiume bene o male dove trovi le strisciadine di schiuma è dove l'idrodinamismo il movimento dell'acqua concentra il mangiare quindi dove dove ci porta sia il pesce foraggio il gamberettino che magari non riesce a contrastare la corrente e lì è più facile che lo predi e poi ricordiamoci che la spigola è un pesce molto intelligente molto opportunista non so se sott'acqua avete mai visto la spigola che sfrutta per mimetismo il branco di sarpe o si mette in mezzo in mezzo ai mugini per fregare magari il gamberetto o il muginettino fa la stessa cosa anche con la posidonia morta è al sicuro perché magari a massa dove sto io è al vertice della della cadena alimentare in Sardegna costa ovest non è al vertice della cadena alimentare cioè se passa una ricciola io credo che una ricciola neanche enorme una spigola d'anchilo l'angoia senza neanche guardarla quindi gli dà protezione e posto dove può fare meglio l'acquado quindi meglio di così e in più lì è come essere al banco dell'alimentare perché magari la corrente concentra lì tutto per mangiare questa era la mia deduzione insomma e ho visto che era giusta alla fine della giostra e questo mi fa piacere perché poi molti hanno iniziato a pescare seguendo le alghe e hanno iniziato a prendere poi i pesci perché prima le alghe le evitavano accuratamente noi invece non siamo mai scappati sulle alghe va bene nel letto di posidonia morta ci sta anche a mare calmo molti pesci molti saragotti soprattutto minutagli è tutto lì attorno dove ci sono le macchie di posidonia anche pescando a mare piatto voglio dire quindi va bene andiamo avanti vai allora andiamo avanti con le slide quindi di schermo allora mi vedete mi sentite tutto a posto immagino di sì allora prima si parlava di quantità di uova per chilo di peso della spigola questa è una sono dati che vengono dall'Inghilterra quindi vanno interpretati un pochino vanno un pochino modificati per quanto riguarda il Mediterraneo ok perché i tassi di accrescimento delle nostre spigole sono leggermente più veloci e il numero di uova per chilo di peso è influenzato sì dalla taglia ma anche dall'età ok quindi però all'atto pratico a noi se invece di 3 milioni e 3 sono 3 milioni e 2 e 33 non ce ne frega niente questo questa tabella perché ci deve far riflettere ci deve far riflettere per quello che vi dicevo prima che col senno di poi ora con più cose che so pensare ad aver ammazzato una femmina uovata di 8 kg e 6 non mi sento più il fenomeno che mi sentivo quando l'ho sparato tanti anni fa 19 anni perché una femmina di 6 kg fa 3 milioni di uova ok ipotizzando che su 3 milioni di uova ne sopravvivano che ne so siamo se siamo ottimisti ne sopravvive il 10% è comunque una marea di spigolette che noi andiamo a togliere dal mare questo questo ci fa andare di nuovo a parlare di quello che dicevamo prima ovvero del potenziale riproduttivo altissimo dei grandi riproduttori rispetto alle taglie medie le taglie medie sono quelle che dove è più tollerabile il prelievo perché in proporzione mangiano allora una spigola molto grande in proporzione a un tasso da crescimento più basso no? vi dicevo all'inizio la curva che disegniamo se andiamo a vedere il tasso da crescimento ha una pendenza meno ripida cioè più è grande il pesce e più cresce lentamente crescendo più lentamente ha bisogno di meno mangiare ok? quindi in proporzione una spigola di 60 cm mangia di più in proporzione rispetto a una spigola di 80 cm ma come vedete una spigola di 80 cm produce tantissime uova di più ha un potenziale riproduttivo molto più alto questo ci fa capire il valore dei grandi riproduttori mettiamoci anche che statisticamente è molto più facile pescare una spigola di 60 cm che una di 80 e che magari una spigola di 60 cm che è già un bel pesce è più buono di una spigola di 80 cm che magari è anche stopposa questo ci fa capire che le taglie medie sono quelle che fanno girare anche il mercato della pesca sportiva chiaro che c'è un numero di pescatori mi ci metto anch'io che magari tira al trofeo più che al numero di pesci però la maggior parte delle persone punta sul risultato quindi la pressione di pesi il movimento di il volume di pescatori viene fatto sulle taglie medie allora questo ve l'ho messo in inglese perché perché l'ho trovato in inglese l'articolo è una pubblicazione che si trova volendo su pubmed quindi su il portale ufficiale dove vengono messe le tesi le pubblicazioni scientifiche sono tutti dati controllati per reviewed cioè controllati da pari quindi sono dati affidabili che spiega delle percentuali che è lo che vi dicevo prima percentuali di mortalità e percentuali di sopravvivenza porti rilascio qui si parla di Northern Sea Bastok perché è uno studio fatto in Olanda ok i dati comunque sono sovrapponibili anche col Mediterraneo il primo dato che salta all'occhio è che in acuto cioè subito non c'è nessun pesce che muore a seguito della cattura se viene pescato con le esche artificiali questo è facile da capire se uno pesca spinning che pesca gomma che peschi con un'esca rigida comunque usa delle già la dinamica con cui il pesce mangia è differente perché a volte mangia per fame ma molto spesso mangia anche per reazione perché l'esca non fastidisce perché come diceva un mio professore d'università il pesce non ha le mani quindi tutto quello che il pesce vuole capire cos'è e che percepisce con la linea laterale con gli occhi ma vuole capire cos'è lo toccherà o con la bocca o col muso per cercare di capire meglio quindi spesso eh la cioè spesso nella stragrande maggioranza dei casi l'allamata con un'esca artificiale è eh meno profonda di un'allamata con un'esca naturale altro particolare spergine pesci piccoli quante volte eh sarà successo a me mi è successo mille volte che uno prende il mini pescetto e non vede neanche la mangiata quando stai pescando a spinning è improbabile che ti succeda così no? cioè te fai il giro di vermi recuperi l'esca e c'è la ragnolina di 10 centimetri e magari stai pescando con una piramide e una ripartita non hai visto neanche la tocca quello è un pesce che ha avuto tutto il tempo del mondo per ingoiare molto profondamente e stressarsi faticare andare in acidosi metabolica cioè l'acido lattico che si accumula nei tessuti tutte quelle cose che vanno a ridurre le possibilità che il pesce sopravviva anche se noi con tutta la buona volontà del mondo decidiamo di liberarlo ok invece con le esche naturali c'è un 13,9% di pesci che muoiono questo 13% di pesci che muore muore perché perché mangia molto fondo ucchimingiuris cioè il lamo va a magari alledere un organo interno va a fare un danno oppure perché il pesce viene tenuto fuori dall'acqua per parecchio tempo una cosa che vi dicevo prima molto importante è tenere maneggiare il meno possibile il pesce una volta pescato se lo vogliamo rilasciare perché un short air exposure massimo 30 secondi cioè un'esposizione all'aria più corta massimo 30 secondi aumenta la possibilità che il pesce sopravviva anche nel caso che venga all'amato fondo del 76,5% quindi tre volte tanto comunque comunque l'impatto totale della mortalità post rilascio deve essere considerato deve essere considerato una variabile quando si va a parlare di gestione degli stock perché il suo impatto comunitivo può essere influente questo cosa vuol dire che la cosa dietro la quale ci nascondiamo tantissimo io per primo che la pesca ricreativa è ininfluente su rispetto alla pesca professionale è vera ma fino a un certo punto questo per chi chiaramente per la legge dei grandi numeri una grande trawler cioè una nave uno scafo grande che fa strascico d'altura chiaramente farà in valore assoluto molti più danni rispetto a tutta la carriera tutta la vita attiva di pesca di un pescatore con la canna però in situazioni piccole in ambienti limitati o in situazioni particolarmente situazioni intendo ambienti particolarmente delicati vi ricordo il discorso che facevo prima della narzeri e del fatto che questi pesci vanno in posti molto specifici e si raggruppano in posti specifici per riprodursi anche la pesca sportiva può avere un impatto è stato dimostrato che purtroppo anche noi possiamo fare danno una cosa importante che vi ho messo riassunto qui vi ho fatto un po' riassunto di tutte le buone pratiche che si andrebbero adottate se vogliamo rilasciare un pesce rilasciare il pesce rapidamente per evitare di rilasciarlo esausto i pesci sono animali a sangue freddo hanno un tipo di circolazione cioè hanno un tipo di cuore particolare in cui il sangue venoso e il sangue arterioso si mescola quindi non sono animali che resistono molto bene allo stress ok questa è una cosa che purtroppo si vede ogni tanto nei pelagici è una cosa molto brutta perché secondo me è molto brutta dei tempi moderni perché c'è un po' la corsa parlo del mio mondo spinning della pesca di determinati pesci vedi il tonno preso a spinning con attrezzatura light a volte questo è molto divertente molto sportivo però può fare danno perché impieghiamo più tempo del normale per recuperare questo pesce e recuperiamo un pesce che è talmente finito da recuperare molto male soprattutto se lo rilasciamo senza riossigenarlo usare un guadino quello che vi dicevo prima a surf tante volte il guadino almeno io pesco da spiagge a bassa energia abbastanza comode dalle rocce non ci pesco quasi mai il retino il guadino non lo porto quasi mai e questo è un errore perché nella gestione di pesci grandi e vitali il guadino ci evita che il pesce sbatta e si faccia male da solo anche perché spiagge se parliamo di femmine grandi ovate di ragno ci può essere anche il rischio della rottura delle sacche ovariche perché i pesci sono progettati per funzionare nell'acqua ok nell'acqua la spinta idrostatica li aiuta sostiene il peso fuori dall'acqua questa cosa non succede più se noi appoggiamo un pesce grosso pieno di uova su un fianco i tessuti non sono progettati per funzionare in quella maniera per progettare nei tessuti negli apparati per funzionare in quella maniera e potremmo trovarci con una pressione anomala tutta magari su su un distretto o magari quest'animale sbatte e si fa male da solo sugli scogli e sulla sulla sabbia tenere il pesce nell'acqua per più tempo possibile se noi il pesce lo vogliamo rilasciare il guadino ci permette di maneggiarlo in sicurezza slamarlo lavorarci all'interno del guadino magari già abbiamo gli stivali gli water magari no però magari già abbiamo gli stivali possiamo tenerci il pesce nell'acqua farci le nostre foto farci slamarlo maneggiarlo senza tirarlo fuori dall'acqua e senza maneggiarlo eccessivamente perché come dicevo prima il tenerlo fuori dall'acqua meno o uguale a 30 secondi aumenta di tantissimo il ratio di sopravvivenza usare gli ami barbless come vi dicevo prima o il circo look gli ami barbless a spinning io mi sono accorto che per certi versi su pesci con la bocca dura l'amo senza ardiglione ti dà quasi una mano perché perché buca di più chiaramente bisogna un pochino modificare la tecnica di recupero l'amo circle dicono che sia addirittura meglio perché è un amo costituito in una maniera tale che è molto difficile tra questa curva molto chiusa è molto difficile che si pianti in parti della bocca del pesce che non siano le parti osse quindi l'angolo la connessura praticamente tra mascella e mandibola gli angoli rimane è difficile che si confichi negli organi interni io onestamente il circle hook non li so usare perché tutte le volte mi scordo che con il circle hook non bisogna ferrare bisogna solo mettere in tensione la la lenza e l'amo il pesce si ferra da solo ci sono ricerche fatte molto bene sui long liner sui palamiti che dicono che i circle hook sono molto molto utili anche per evitare il bay catch cioè evitare che ogni tre o quattro ami per errori si peschi un gabbiano un delfino una tartaruga marina ok i pesci come vi dicevo prima sono progettati per funzionare bene nell'acqua quindi se noi il pesce qui c'è scritto you must handle the fish tra the little below the valley and only remove for dice perché se noi vogliamo fare la foto al pesce e poi rilasciarlo bisogna tenerlo come nella figura in alto grossa di questa trota o salmerino ok evitando di schiacciarlo evitando di fargli pressione perché il pesce dove c'ha le pinne ventrali qui tra le pinne ventrali e pinne pettorali non pinne ventrali scusate tra le pinne pettorali e la fine dell'opercolo branchiale più o meno c'ha il cuore quindi se noi andiamo a stringerlo lì molto chiaramente gli creiamo un danno agli organi interni ed è inutile rilasciare un pesce morto se lo voglio rilasciare devo rilasciarlo nella miniatura maniera possibile il pesce se è un pesce grande e ha avuto una difesa strenua uscirà fuori bello stremato ok è utile riossigenarlo prima di rilasciarlo addirittura ci sono dei pesci che vanno in blocco i tunnidi l'allitterato sembrano morti li lanci e ripartono perché sono pesci che si stressano tantissimo sono pesci molto che si affaticano molto e quindi in questa maniera questo questo sistema di lanciarli c'è proprio una manovra si buttano di muso nell'acqua ripartono e riniziano a respirare quello che vi dicevo prima importantissimo se il pesce ha ingoiato non bisogna cercare di slamarlo perché si fanno molti più danni cercando di estrarre un amo che tagliare il filo e lasciardelo lì immaginatevi i succhi castrici di una spicola che è abituata a mangiare granchi gamberi c'è roba che c'ha corazze gusci spine cioè io dentro un ragno grosso ho trovato una raganella una tracina lunga un palmo cioè non gliene frega niente non amo un amo poi gli ami moderni sono quasi tutti di acciaio al carbonio con tenore di carbonio molto alti perché sono devono essere ami leggeri col filo sottile che bucano come dei dannati quindi sono sono quasi tutti ami con un grosso tenore di carbonio gli ami con tanto le leghe d'acciaio con tanto carbonio ossidano molto rapidamente in acqua salata una cosa se vogliamo fare i pescatori particolarmente sensibili magari facciamo quello che dicevo prima che stanno iniziando a diffondersi tra i pescatori professionisti è di evitare gli amminox magari perché ci mettono di più ultima cosa non tenete mai non prendete poi la spigola già sta boccona un po' lo aspia e lo ispira non tenete mai il pesce per la mandibola di sotto e anche qui il voierismo l'esibizionismo le foto giappate con questi pesci tenuti in verticale per la mandibola hanno fatto più danni che la grandione perché questa è la maniera di dislocare la mandibola e rilasciare un pesce che morirà tra l'altro in maniera lenta e piuttosto dolorosa perché povera bestia non riesce ad alimentarsi e magari ci mette un mese a morire di fame ultima cosa quello che vi dicevo prima se volete rilasciare un pesce un pesce grosso attirato abbiamo tripolato già era mare grosso si è buttato nel canale abbiamo tripolato a recuperarlo è venuto fuori che è fatto è bene prima di rilasciarlo ossigenarlo un po' ossigenarlo praticamente dovete fare in modo che l'acqua attraversi le branche le branche funzionano un po' immaginatevi sono l'analogo dei nostri polmoni quindi immaginatevi quanto gli fa bene infilargli le dita dentro le branche questo deve evitare assolutamente però funzionano un po' come uno scambiatore cioè sono dei polmoni che funzionano come uno scambiatore di una caldaia quindi se ci passa attraverso ci passa attraverso l'acqua avvengono gli scambi gassosi quindi il nostro pesce lo dobbiamo tenere in movimento perché magari è sfinito non riesce a pompare abbastanza acqua con gli opercoli i pesci cartilaginei in particolare gli squali forni devono nuotare ok per per pompare per far passare l'acqua attraverso le branche anche loro hanno degli adattamenti e riescono a respirare anche stando fermi solo gli squali davvero belagici tipo un'inimente che ne sono una vaio verdesca un maco vanno in affanno se non si muovono i pesci ossei hanno gli obercoli e hanno un sistema di muscolatura che gli permette muovendo le branche di respirare gustando fermi se il pesce è molto stanco se è sfinito non riesce a pompare abbastanza acqua dentro le branche è come se noi respiriamo facciamo una corsa allo sfinimento e poi ci fermiamo e ci mettiamo tre mascherine una sopra l'altra chiaramente è difficile che riusciamo a recuperare il debito d'ossigeno per il pesce la stessa cosa se noi lo muoviamo gentilmente avanti indietro o con questa figure eight cioè a forma di otto riusciamo forzatamente a ventilarlo cioè a fargli passare acqua forzatamente nelle branche invece che pomparla lui e in questa maniera il pesce riesce a ossigenare i tessuti e riparte mi raccomando rilasciate non non abbiate furia di fare questa manovra tanto perché è anche di soddisfazione cioè per me è successo tante volte mi succede io sono appassionato anche di pesca del luccio il luccio e la spigola sono i miei due pesci di elezione riossigenare un luccio ad un metro e vederlo ripartire ti fa star bene ti peschi il tuo pesce te lo coccoli in mano te lo fai ripartire e lo lasci andare solo nel momento in cui tenendolo per la coda sotto la pancia lo senti che tira quello è il momento che lo devi lasciare andare ok io ho finito la presentazione quindi sono a vostra disposizione per domande dubbi e chiarimenti anche su quest'ultima parte bellissimo per noi è un po' difficile aspetta che non riesco più a vedervi cosa ho fatto ci dà la condivisione condividi 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 partecipare se vai su ti si apre la schermata è che inizio a essere inizio a essere in riserva inizio a essere stacco ossigenati Matteo sì qualcuno mi deve tirare avanti e indietro avversi riparto allora è stata una una presentazione incredibile perché tante informazioni che io personalmente io non avrei immaginato mai che una spigola potesse vivere trent'anni insomma come non avrei mai immaginato che una spigola di quaranta centimetri ha cinque anni di vita cioè una spigola di otto noveetti è un mondo fantastico io credo che per noi non sia semplice effettuare i rilasci così in modo così preciso perché con mare grosso e con le onde che è anche pericoloso non per la spigola pericoloso per noi avvicinarci troppo alla battigia insomma quindi lì la vedo la vedo un po' tosta dai Marco io purtroppo mi baso su sul nord della Toscana che è un mare un pochino diverso rispetto alla Sardegna non c'ho non c'ho la risacca che scarica tutta la terra non c'ho il gradino quindi è tutto più semplice però si può trovare un compromesso nel senso se il pesce uno lo fa riossigenare quello che dicevo prima un bel guadino con una bella testa grossa e la rete magari di nylon annodato così il pesce non rimane attaccato con con le opercoli oppure ora sono di moda e non sono malaccio i guadini con la rete di silicone anche se pesano una tonnellata ti permette di far riossigenare il pesce un pochino in sicurezza e magari farlo ripartire abbiamo quel problema perché ci sono delle spiagge dove avvicinarsi alla battigia con frangenti di due metri man mano che ti avvicini vedi una cosa che cresce guarda io dal 2009 che mi occupo anche altro hobby oltre che la pesca di soccorso in mare con i soccorsi speciali di Croce Rossa e sono stato a Bosa un po' di anni fa è un altro c'è un altro pianeta anche soltanto la quantità di chilometri che riesce a correre un'onda prima di scaricare l'energia sulla costa è un altro pianeta rispetto a noi ti ripresento che Bosa è anche una spiaggia media sia Turas che Portoalab sono spiagge medie quando tu hai a che fare con spiagge tipo anche in Gurtoso tipo Pistis tipo Torre dei Corsari dove le pendenze sono più elevate e lì ti arrivo parlo di un'altra isola così ti incazzi ho visto una mareggiata a Nonza che io non mi sarei avvicinato al mare neanche se prendevo il dentice di 30 kg cioè c'era tipo non c'era la frangenza scaricava tutto sul gradino c'era sti muri d'acqua di 2 metri e mezzo sì Nonza secondo me era delle spiagge più profonde del Mediterraneo io ci sono andato a pesca è veramente impressionante poi non ci sono canali punte è tutta dritta c'è questa profondità incredibile nera che ti mette l'ansia e poi c'è un altro problema Nonza non è proprio la spiaggia migliore dove andare a pesca ma questo è un dettaglio perché dietro Nonza proprio c'è uno stabilimento che è in piedi c'è un pochino di un pochino d'amianto giusto un po' c'era una fabbrica di Ethernet lì c'è la più grossa la più grossa miniera d'Europa di Damianto e quindi viaggia so c'è tanto di quell'amianto che Dio ce ne scampi e liberi sott'acqua perché fuori dall'acqua la spiaggia è nera è ciotolosa e magari non però non è proprio la spiaggia migliore dove andare a pesca anche se è una spiaggia affascinante da paura io ci ho preso un pesce che non ho mai capito cos'è che mi ha sbobinato tipo tutto un 10.000 e non ho mai capito cos'è arriva a tutto arriva con una profondità del genere arriva a tutto arriva a tutto perché ha una catena alimentare a mio parere molto completa lì ti possono arrivare i toni sotto gli squali per arrivare di tutto a differenza delle nostre spiagge dove invece si limita la catena alimentare è pochettino più limitata però bellissima bellissima serata bellissimi argomenti la cosa che si può fare secondo me noi proviamo a sensibilizzare però per riuscire a fare qualcosa di serio bisognerebbe trovare un canale che ci porti poi a parlare con chi deve essere sensibilizzato noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa possiamo fare per esempio un sondaggio vedere un attimino cosa ne pensano i pescatori sentire un attimino i pareri condividerli queste cose le possiamo fare sicuramente lo faremo quanto prima però il far capire che prendere tre quattro pesci superiori ai tre chili è un danno enorme lì è tosto prendi ne uno e poi gli altri li rilasci ma quelli che invece fanno le foto con dieci spigole un pochettino bisognerebbe bastonarli a mio parere ecco Brando io volevo proprio introdurre questo argomento qui perché in quest'ultimo mese anche due mesi è un fiorire di foto sui social di spigole con le uova ed è una cosa che mi fa particolarmente incazzare perché non è non è solo l'atto ma sono i commenti delle persone che sono scandalosi sono scandalosi scandalosi perché come ti azzardi a dire che magari forse era meglio se lo liberavi quel pesce se ti va bene ti danno del rosicone se ti va male ti arrivano messaggi minatori capito però ben vengano le puntate come queste in cui in cui vengono spiegati certi meccanismi starà poi a noi anche condividerli in maniera massiva sui vari gruppi o sulle pagine sulle pagine che ci sono è importante che comunque si tenga alta l'attenzione del pubblico perché poi a forza di magari parlarne probabilmente si riuscirà anche a cambiare un pochino la mentalità quantomeno di un buon numero di persone poi se ci sono quelli che vanno le pescano per andarle a vendere purtroppo contro quelli lì non ci potrei fare nulla quando li fai capire che sbagliano che è anche sbagliato mostrare certe cose perché non vanno non solo non vanno fatte ma non vanno nemmeno mostrate perché diamo un'immagine pessima pessima assolutamente ma a livello globale perché ragazzi i social vengono visti in tutto il mondo cioè in posti dove dove c'è una maggiore attenzione come l'Inghilterra stessa o l'Irlanda quando vedono i post che facciamo non in Italia ragazzi si scandalizzano si scandalizzano queste sono figure di merda globali quindi c'è proprio un aspetto di etica di immagine che diamo che è totalmente sbagliato totalmente che va appunto dal pescatore sportivo al pro staff che deve fare il figo col pesce perché glielo chiede l'azienda quindi c'è da muoversi su più su più fronti assolutamente poi posso io posso capire tutto capisco che l'azienda abbia bisogno di visibilità e che poi la visibilità la ottenga con la foto del pesce questo io dal lato dal lato marketing è giustissimo però da un lato strettamente etico di tutela non ce lo possiamo dal lato marketing io ti volevo dire un'altra cosa tu sei sicuro che questo messaggio funzioni a vita perché secondo me la chiave passa tutta da lì cioè se la gente la smettesse di incensare tanto siamo in duecento ma siamo tra di noi se la gente la smettesse di incensare un volpi ah beh certo se questa gente fosse messa non ti dico la berlina ma la gente la smettesse di fargli gli occhini a cuore cambierebbe perché ci sono paesi te lo sai che io ho già avuto culo da andare tre volte in Giappone no due volte in Giappone ci sono paesi in cui la pesca è diffusa come da noi il calcetto in cui l'idea di ammazzare una Suzuki non gliene frega niente e ci girano cinquanta volte più soldi di quanti ce ne girano da noi perché anche soltanto di componentistica per modificare mulinelli sono folgorati sui montaggi ci girano cinquanta volte più soldi eppure ti guardano in maniera strana no? cioè credo che la rivoluzione copernicana passerebbe attraverso quello cioè smetterà di approvare chi fa determinati cioè i comportamenti aberranti andrebbero guardati con l'occhio che va dedicato ai comportamenti aberranti fammi fare un esempio pesante e scemo pensi che ci sia modo di cambiare il cervello di una persona di settanta e passanni che non riesce a concepire il fatto che una donna faccia l'amministratore delegato di una società grossa no però siamo arrivati al punto in cui almeno in pubblico non può più fare determinati commenti perché lo guardano male perché vieni stigmatizzato dal punto di vista sociale invece noi continuiamo purtroppo il mondo della besca continua a incensare della gente che sono dei criminali la federazione è in marcia fino a in fondo perché prima ti dicevo io sono finito dentro una polemica che non finisce più lo sai ho pescato sott'acqua una vita ho fatto un sacco di gare fino alla seconda categoria però ho fatto una guerra che non finisce più quando la federazione ha iniziato a difendere a spada tratta le gare di besca subacqua in acqua interne cioè che cacchio di figura fai a farle foto con do luci nadinca ancavedano che poi li pigli li butti via oppure una gollana di gronghi e dodordi una gara di pesce a coefficiente ci facciamo tutti una figura e invece no la pesca sarebbe queste serate qui sarebbe 20 persone che non si conoscono nemmeno ma stanno a sentire un cretino che gli racconta della spigola che fa le uova sarebbe una roba un pochino più sana sì ma io credo guarda io vedo soprattutto una cosa io ho amici un po' di pesca in tutto il mondo no in America per esempio sono grandissimi appassionati di shark fishing ma loro taggano tutti gli squali taggano tutti gli squali poi con educazione dolcezza gli fanno una foto gli mettono l'acqua gli ossigenano bene quando lo squalo ha intenzione di riprendere il largo lo accompagnano e lo lasciano andare purtroppo una battuta brutta allora parliamo di shark fishing come mai l'unico cretino che maltratta i pesci di tutto maio è un italiano sì lo so lo so lo so queste sono le robe che fanno venire rabbia l'altro Mattia perché sono lui no addirittura taggano loro hanno hanno addirittura la convenzione almeno la avevano non so se l'abbiano ancora per cui non è solamente lì non è solamente a maio ma anche a Salle c'è un altro centro dove c'è un altro italiano che io peraltro conosco anche bene purtroppo gli unici sono gli americani per cui prendere esempio sono loro non c'è niente da fare sono di un'educazione di un rispetto che non abbiamo idea si fanno due foto anche nelle gare loro fanno le gare di shark fishing no fanno le foto prendono la misura il diametro riescono a stimarne il peso con questi due parametri non le formule anche per le spigole non le ho messe perché sono due palle di conti ma se vuoi ve li giro tutti i coefficienti ci sono ci sono dei coefficienti che con questi due parametri ti danno approssimativamente il peso tu prendi lo accompagni in acqua quando lui si riossigeno prendono e lo rilasciano e gli fanno le foto quando lo rilasciano ed è una festa quindi ma lo fanno durante le gare però voglio dire e ne prendono squali noi invece abbiamo questa mania delle gelosie dei litigi del mettersi in mostra del io l'abbiamo fatto abbiamo fatto anche una puntata basta un pesce ti vuoi fare una foto fatela con un pesce non farti una foto con dieci spigole con quattro orati tre spigole venticinque saraghi cioè che senso ha è chiaro che magari una pescata del genere ti capita ogni due tre anni io non dico che devi per forza togliere le canne insomma ecco però quantomeno a livello di messaggio fate una foto con un pesce e ciao finisce lì non fosse altro per il messaggio che passa agli altri poi una spigola io una spigola di dieci chili l'ho preso ma è immangiabile è immangiabile guardate che è impressionante è immangiabile forse solo sto pose proprio in mangiare una spigola da un chilo e sei un chilo e otto a mio parere è la migliore in assoluto come come il risultato in cucina insomma purtroppo ci sarà molto da lavorare a questi livelli perché come li dici dopo che ci fai vedere tre secondi così che cazzo pensi di fare bella figura ti saltano addosso capito ti saltano addosso scusa se poi senza considerare anche un pesce grosso quanto ha campato perché con i dati che abbiamo visto stasera ha visto una spigola di otto nove chili può aver campato anche venticinque anni quindi quanto è stato in mare quanti comunque inquinanti può aver assunto quindi ti mangi come un po' il discorso del tonno nel senso anche queste campano tanto in mare mangiando comunque evidentemente roba fra virgolette probabilmente anche inquinata il bioaccumulo funziona uguale per qualsiasi pesce infatti probabilmente un ragno di dieci chili preso da da Livorno arrivare a Piombino se te lo metti sotto il braccio segna la temperatura dai tempi gli etruschi che ci scaricano mercurio prendi l'affoggio del corne te lo metti sotto il braccio cambia colore ma magari la foce del corne no perché non è tanto inquinato per il fiume Matteo però drena tutte le colline metallifere proprio a livello di minerali capito di dove cammina sì 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 questo è vero per parlare della sorvee scusate l'irruzione bellissima la coccola vai bellissima la serata scusa la ticetola sì una mano alzata di cucillo però non so se gli è rimasta la prima posso io volevo dire a parte la straordinaria puntata di stasera che come fa pensare noi la puntata ci fa ripensare a determinate cose fatte sbagliate giuste penso che faccia pensare anche tutti quelli che ascolteranno la puntata e che se non si comincia mai a dire delle cose mai si sanno tipo le anguille che sono protette quindi persone autorevoli come Matteo che hanno studiato e studiano e questo è il loro panno quotidiano ci insegnano queste cose le insegnano a noi ma le insegneranno e le insegneranno anche a tutti quelli che ascolteranno questa puntata e non si può sicuramente stravolgere la nostra il nostro modo di di fare pensare che gli italiani negli anni sessanta la stragrande maggioranza non sapevano né leggere né scrivere c'era un programma però il maestro Manzi è riuscito a cambiare il mondo ok vedi con tanta gentilezza questo grande maestro è riuscito a insegnare l'italiano e a leggere e a scrivere quindi questa puntata è fondamentale è un anello e un puntino di quel cerchio che noi dicevamo quindi la comunicazione di Matteo serve a noi ma servirà moltissimo anche a tutte le altre persone che ascolteranno la puntata e se mai si parte mai si raggiunge un obiettivo quindi questo puntino è fondamentale assolutamente d'accordo bisogna iniziare piano piano si inizia cercando di non pestare troppo come abbiamo sempre fatto cercando di non pestare troppo i piedi però cominciando a trasmettere messaggi di un certo tipo e secondo me anche qualcuno di questi si darà una regolata io sono fiducioso in questo perché poi molta gente ci emula fanno finta di niente fanno finta di non vedere però 150.000 visualizzazioni le abbiamo insomma in quest'anno e mezzo quindi quelli che ci guardano secondo me sono più questi galletti da social che pescatori veri insomma che ci seguono perché hanno un interesse diverso e andiamo avanti così io credo che si possa dare inizio proprio se Matteo ci dà la disponibilità tra l'altro Francesco Tiralongo io l'avevo contattato mi ha risposto e prima o poi entra in serata perché anche lui tra l'altro è un appassionato pescatore anche Francesco solo che lui è troppo incasinato e lo hai seguito per tre mesi prima o poi entra però l'aspetto della biologia è importantissimo per tutte le specie oggi abbiamo visto quella della spigola però tutte le specie che noi andiamo a toccare di volta in volta anche come esche secondo me vanno guardate sotto all'aspetto biologico forse riusciamo a vederle con un occhio diverso insomma io è questo sotto questo aspetto faccio un mille da me perché poi ci sono le varie curiosità i pesci serra prima non ce n'erano poi io ho preso il primo pesce serra che abbiamo preso noi è del 96, 93 93 mi sembra 6 kg di pesce serra se vuoi Marco sul pesce serra io ho un compagno d'università che ha fatto genetica molecolare pescatore anche lui sia sott'acqua che a spinning che ha fatto penso già abbia fatto un pezzo di dottorato sul serra una serata sul serra bisogna farlo perché io ho delle informazioni che chiesi proprio in quegli anni a un amico sempre biologo che faceva lui seguiva le peschiere dell'Adriatico e mi spiegava che Marco è sufficiente che un anno la temperatura sia più alta che so di un grado che maturano prima quelle uova si chiudono prima le uova che sono del pesce serra di quella della spigola le spigole si ritrovano i pesci serra già grandetti che se ne mangiano e crescono a dismisura è sufficiente un anno e sono miliardi di pesci serra questa era la spiegazione più o meno che mi aveva dato lui però è un qualcosa che comunque desta troppa curiosità perché ormai sta diventando invasivo continuerà, non continuerà si fermerà comunque Marco se vuoi te lo contatto questo mio amico un'altra cosa che potrebbe essere interessante se voi siete aperti a queste cose e mi sembra di aver trovato un mondo virtuoso è coinvolgervi voi quando ci sono ricerche in corso perché quando sto ragazzo ha fatto il dottorato lui per esempio ci ha chiesto a tutti noi perché magari ci si beccava perché era spinning in porto al Livoro magari di mandargli un campioncino un pezzettino di codina di serra per fare testa genetica più si allarga questa cosa e più si inizia a capire veramente su come funzionano determinate cose assolutamente sì se si riesce a dare una mano anche sotto questo aspetto noi siamo ben felici ora penso che lui insegni ora perché i biologi marini fanno la fame ha fatto il concorso per andare a insegnare a scuola però secondo me se gli parlo di questa cosa la fa più che volentieri di fare anche una serata sul serra contattalo contattalo direi di prepararsela poi quando vuole tanto noi non anticipiamo mai la serata successiva va bene quindi va benissimo secondo me sì se a te viene bene c'è lui per me guarda se riusciamo a fare una serie di serate esaminando di volta in volta le varie specie al di là dell'aspetto strettamente legato alla pesca che ci riguarda cioè non le esche terminali sono sempre le solite minchiate no? che ormai più o meno tutti conosciamo ecco parlare proprio invece degli allarmi del rispetto dell'etica di cosa vuol dire pescare un pesce da 10 kg come quello che ho preso io che è un disastro che poi non vale la pena non vale la pena tenerlo quindi se si riesce a fare e a iniziare a sensibilizzare passo dopo passo gli altri pescatori noi siamo ben felici noi è questo che vogliamo fare insomma poi se si può dare una mano in tutto quello che è la ricerca benvenga lo facciamo sicuramente io volentieri guarda se se occasione io lo rifaccio volentieri mi diverto quando noi tutti i giovedì se a te se tu ci sei il nostro giovedì è un appuntamento fisso insomma quindi mi diverto poi magari impara a pescare che sono una pippa la volta che impara sott'acqua mi difendo ti riesco ad un po' meno io sempre con i piedi fuori da ragazzino faccio un po' di subacquea mamma mia no no più invecchio e più divento contemplativo anche sott'acqua sì no io ho i piedi fuori dall'acqua non mi interessa più fare le pescate da un sacco di pesci magari li tirò a un pescione uno quello quello ormai pesci ne ho preso veramente tanti non me ne frega niente di far vedere i pesci o di mettermi in mostra non me ne può fregare di meno non salto addosso a quelli che fanno le foto con dieci spigole vedi tu che pure so come le prendono peraltro per cui speriamo di riuscire a sensibilizzarli io sono fiducioso perché poi sai non so non so da voi com'è la situazione ma qui in zona da me le generazioni quelle nuove i ragazzetti sono mi danno speranza eh invece qui da noi è proprio l'esatto contrario ce n'è qualcuno cioè c'è stato il picco causa pro staff tanto vedo che non registri più qualcosa ma non sto registrando ma non dopo taglio poi causa causa pro staff c'è stato il picco che per emulazione per farsi considerare dal pro staff è ancora così hanno fatto le boiate e ora invece c'è una generazione un gruppo ragazzetti che vedo bravi tecnicamente che pescano molto bene però pescano in maniera sana per divertirsi non gliene frega niente di stare a fare io invece purtroppo da quello che vedo sui social è perché io poi mi baso su quello è chiaro no ci sono i ragazzetti che devono conquistarsi un posto da pro staff peggio ancora peggio ancora poi ci sono invece quelli che non hanno mai capito un cazzo di surf che però vanno a pesca da molto tempo ma non ci hanno mai capito nulla che poi diventano pro staff però quelli non fanno danni perché non avendoci capito un cazzo fanno una pescata all'anno se mi va bene poi possono dire tutto quello che vogliono poi invece ci sono quelli che invece il pesce se lo vendono purtroppo e non ne hanno bisogno perché tra l'altro quelli che se lo vendono stanno pure bene economicamente non fanno un cazzo dalla mattina alla sera sono sempre a pesca conosciamo bene il problema in Toscana no Brando abbiamo due o tre di fenomeni eh ragazzi mi sa che fenomeni ci sono dappertutto i fenomeni e quelli che un tio non oscano sono dappertutto io ultimamente c'è questo fenomeno di Cavras che va a pescare nel nei canali delle peschiere con la bilancia poi vai a si fa le foto in spiaggia raccontandoci che c'era una condizione ottimale quando invece noi vediamo le webcam tutti i giorni guarda caso proprio dove gli ha preso lui pescella webcam sfigato di merda forse manco lo sa quindi non era possibile pescarci perché c'erano onde di due metri tu lì con onde di due metri non ci peschi punto primo punto secondo in quelle spiagge di spigole se te ne salta fuori una stagione ti va di lusso perché non non è una prenda abituale in quelle spiagge eh più sara gheorate sono più misti sono eh salta fuori con dieci spigoli come io lo so le hanno prese con la bilancia nel canale della 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 peschiera quindi che quelle sono peschiere estensive giusto? sì esatto e loro ci pescano con la bilancia nel canale di peschiere peschiere chiaro che le spigole passano da lì quindi la cooperativa sono contenti eh se li acchiappano li sparano a lardo eh perché? eh però sai lo fanno da sempre io sono almeno 40 anni che so che viene viene fatta sta cagata insomma bene ragazzi è stata una serata a mio parere molto bella io chiudo qui la registrazione e ringraziamo tutti e soprattutto ringraziamo Matteo che è stato illuminante per per tante per tante cose insomma Matteo tante grazie grazie a tutti eh a voi grazie a voi per il tempo la pazienza vi ho ammorbato e annoiato eh ammorbato ad averla un'informazione di più la saverda esatto ad avercela le informazioni grazie di nuovo grazie a voi grazie a voi grazie a voi